Ciao e benvenuti in un nuovo video. Farò questa presentazione velocissima perché sono sicuro che sarà una discussione lunghissima quella che faremo con Matteo. Matteo è un critico cinematografico, professore attorvergata, è il direttore di Point Blank, una rivista di critica cinematografica e insieme a lui chiacchiereremo dei migliori film di quest'annata degli Oscar 2024 per la precisione dei film candidati a Best Picture e quindi questa sarà una sorta di guida perfetta da vedere prima e dopo gli Oscar 2024, prima e dopo la premiazione. Vi lascio subito alla discussione perché ripeto sarà una discussione lunga, potete tranquillamente tenerla come un podcast nelle cuffiette, non ci sarà molto da vedere a parte le nostre due faccione e visto che so che vi è piaciuta molto la discussione su Dune e Due e spero che vi piaccia altrettanto questa e vi invito a commentare, a dire la vostra sui film, a discutere con noi di questi splendidi dieci film. Ciao Matteo, benvenuto, come vedi mi sono dimenticato di lasciarti una nota sul dress code, quindi ora c'è una persona con una pazza perché sono le dieci del mattino e una persona invece vestita come se dovesse andare davvero agli Oscar, però devi sapere Matteo che in questo canale si sono tenuti dei premi decisamente più di livello degli Oscar che hanno tra l'altro assegnato la vittoria a Killers of the Flower Moon senza aver visto quasi nessuno dei film degli Oscar, quindi penso che dovrà essere rifatta quella classifica. Comunque dicevo appunto, si sono svolti Lion Moon Awards poco tempo fa, avevo ancora il vestito di quella esimia premiazione e quindi, e quindi niente, oggi sono vestito come un cretino e soprattutto perché è carino metterlo nella thumbnail. Comunque, siamo qui per fare una sorta di guida, di introduzione agli Oscar e alla fine del video faremo anche dei pronostici, che anzi no, non facciamo i pronostici che sono a rottura di palle, tipo, sono quasi sicuro che vincerà questo, no, diremo quali sono i nostri film preferiti, anzi lì stileremo una classifica, sono dieci, quindi una perfetta top ten dei film che preferiamo candidati agli Oscar. Ci concentreremo adesso per ora solamente sui film nella categoria Best Picture, quindi miglior film, e le seguiamo in ordine alfabetico, esattamente come sono sul sito ufficiale degli Oscar. Quindi direi di iniziare subito a bomba, Matteo. Ti ho già presentato, o meglio, il Michele del futuro che registrerà la presentazione di questo video, ti avrà già presentato, quindi non c'è bisogno di farlo ulteriormente. Michele Grafico leva il teatro e siamo, tu non lo sai, ma le nostre facce adesso stanno su un frame di American Fiction, e al centro, al centro tra le nostre due faccione, c'è la locandina di American Fiction. Quindi iniziamo da là, vuoi introdurlo tu? Introduco io? Come vuoi? Vai, se vuoi introdici pure. Vado? Allora, American Fiction, opera prima, se non sbaglio in concorso come miglior film, sono due le opere prime, quindi strano, strano, già questo è una nota abbastanza particolare. è un film strano, strano per i canoni americani, mentre invece poi è un film abbastanza canonico, è una commedia direi quasi blanda. Se non fosse che il messaggio all'interno della commedia è parecchio strano per la platea politica e sociale che c'è solitamente agli Oscar, perché fondamentalmente veicola un messaggio contrario a quello che di solito viene forzato sulle premiazioni, e cioè che se uno è un afroamericano può anche non parlare di storie di afroamericani, perché il protagonista è questo scrittore che si vede rifiutare il suo libro per tipo la quinta, sesta volta, e la motivazione è che scrive libri non abbastanza da nero. Naturalmente questo lo fa incazzare, e la sua risposta è una risposta abbastanza comica, perché decide di scrivere un libro molto nero, eccessivamente nero, una sorta di presa in giro di tutti quegli stereotipi del nero che viene dal ghetto, si inventa addirittura una personalità di un ex galeotto scappato dal carcere per scrivere questo libro, e il libro ha un successo straordinario. Quindi ripeto, classico impianto della commedia, devo dire non mi ha entusiasmato a livello visivo, nel senso che è proprio apparentemente una blanda commedia, magari tu invece poi mi illuminerai su cose di cui non mi sono reso conto, mentre invece è molto molto carina la scrittura, bravissimo l'attore protagonista, che tra l'altro ricorderanno tutti per la sua parte di Bernard in Westworld. Niente, è tutto qua, questa era l'introduzione al film. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Cosa vuoi segnalarci del film? Guarda, il film devo dire lo aspettavo con un pochino di curiosità, da una parte perché c'è un po' un feticismo per il cinema americano che racconta, questo poi non lo faceva così da vicino, però un pochino che racconta il contesto accademico, il contesto accademico, soprattutto poi il college, arrivavo da Old Overs di Pain, che poi andiamo a recuperare. Noi vogliamo dopo, teniamocelo. Quindi, però ero curioso di vedere insomma se c'era un pochino anche una linea, in realtà il film poi lavora su tutt'altro, io non avevo, ero riuscito, quando ci prova, a non leggere pressoché nulla prima di vederlo, e quindi insomma mi sono lasciato un po' seguire, cioè ho seguito un po' il film liberamente. Sì, è interessante, secondo me è buono. Il problema grosso è che, credo che sia due film, cerca di essere due film in uno, forse perché è stato così difficile portarlo a casa, perché comunque è realmente un film puntista produttivo indipendente, però c'è tutto l'impianto di denuncia, tra virgolette, soprattutto di satira sociale, satira culturale, che funziona molto bene. Credo che sia a volte anche abbastanza affilato, anche se sicuramente era più affilato nel libro, perché comunque nel... Tratta da un romanzo, sì. Il gioco è questo, alla fine sì, è l'adattamento di un romanzo che in pieno stile postmoderno simula al suo interno un altro romanzo, e quindi ha tutte le porzioni di testo del romanzo finto del protagonista, con tutta la prosa riadattata, e quindi ha costante dentro fuori lì. Mentre invece qua mancano un po', cioè ci stanno proprio un paio di scenette, però sinceramente io non ho letto il romanzo, quindi non lo sapevo, però un po' l'ho sentita questa cosa, questa mancanza, nel senso che mi sembrava che quel gioco del romanzo nel romanzo fosse davvero solo accennato nel film invece forse necessitava di più attenzione. Sì, questo sì. Devo dire quello che gli riesce un po' meglio, magari, è adattare alcuni temi del romanzo alla questione woke di oggi, alla dinamica delle guerre, le cosiddette cultural wars, le guerre culturali, insomma, che si svolgono oggi negli Stati Uniti, perché il romanzo, se non sbaglio, ha 15, più o meno, eh? Una quindicina d'anni. Penso sì. Che nei tempi di, soprattutto di internet, perché ormai è quello che veicola molto il dibattito collettivo, sono molti, moltissimi. Quindi in realtà la situazione è molto più, si è molto più inasprita, i dibattiti sono molto più accesi, le posizioni sono molto più estreme da una parte e dall'altra, no? Basta vederlo, insomma, nei tempi di candidature elettorali di questi giorni. Certo. E il film che lo riesca, appunto, ha due o tre frecce che funzionano molto bene e lo dimostrano anche il fatto che il suo arrivo in ormai non è più cinquine, in decina degli Oscar, è da un certo punto di vista perfetto, nel senso che è un tuffo carpiato, perché se il film denuncia la difficoltà dell'elite culturale bianca ad accettare una voce black che si è diversa dalla blackness, dall'idea di blackness che loro hanno, che è quella invece della povertà, anzi del porno alla povertà, diremmo, poverty porn proprio, crime porn di quel tipo, e quindi cerca di raccontare qualcosa di diverso. Il fatto che questo film sia lì sembra la perfetta situazione di sciacquo della coscienza, a dire, ok, abbiamo sentito, abbiamo accettato, abbiamo capito, tutto a posto, cioè, se prima accettavamo, facevamo arrivare fin qui un film, magari, che raccontava esattamente quel tipo di roba, quel tipo di difficoltà, la blackness ridotta all'essere il ghetto, all'essere il crime, eccetera, adesso riesce ad arrivarci un film che ci dice che quella roba lì non è solo quella. Però è un po' sempre grottese, rischio, e quindi, credo che il meccanismo di sbelare gli altarini funzioni, è considerata poi la ricezione del film. E Jeffrey Wright è bravissimo, quindi sono anche molto contento che sta prendendo qualche premio, una maggior visibilità, perché è veramente un attorone che non ha trovato, non ha trovato, non per colpa sua, chiaramente, industriali. Però, insomma, le dinamiche giuste in cui muoversi, forse a livello di grande, grande spettacolo, grande cinema, però è veramente un attore potente, molto, molto potente. Quello che semmeno funziona è il doppio registro, nel senso, è un film che, quasi inspiegabilmente, però appunto, forse per motivi produttivi, cerca di portare a casa sia la dimensione della satira che la dimensione del dramma familiare. È vero. Quello non funziona per niente, purtroppo, perché tra il personaggio di Chris Rock, la dinamica relativa al dramma familistico, è veramente male. Sì, e che sono due registri davvero molto, molto diversi, perché quello che non ho detto nell'introduzione è la parte che mi è interessato di meno, e cioè il fatto che il protagonista della storia che appunto vive questo momento di smarrimento lavorativo, visto che deve riuscire a piazzare questo nuovo romanzo, lo deve fare soprattutto perché la sua famiglia si sta sfaldando, ha perso la sorella, il fratello, diciamo che non è molto affidabile, la madre sta male, deve essere, deve trovargli una casa di cura in cui stare, insomma, sta vivendo un momento molto intenso a livello familiare, che però, come dice giustamente Matteo, cozza un pochino con tutto l'aspetto invece super grottesco appunto di quest'uomo nero accusato di non essere abbastanza nero, naturalmente da dei bianchi, e quindi niente, sono pienamente d'accordo con te, non è il mio film sfavorito dell'anno, perché comunque sia l'ho trovato un film scritto bene, anche con questo suo grosso difetto, e soprattutto per la performance dell'attore protagonista che è, come abbiamo detto, è davvero straordinaria. Ora, ho detto che dobbiamo parlare per cinque minuti a film, sono già una decina abbondante, quindi passiamo al prossimo, poi magari richiudiamo le file di tutto il discorso parlando in generale di tutti e dieci film, un'ultima parola se vuoi, e poi il Michele della grafica cambiare la grafica. Allora, mentre il Michele grafica si prepara, possiamo dire che no, anche per me non è il disfavorito, è un film scritto meglio di quanto è girato, e non a caso il regista opera prima è in realtà sceneggiatore di diversi episodi di Watchmen, che è una delle miniserie più belle uno dei discorsi tra l'altro sulla blackness e sul razzismo sistemico più belli e intelligenti fatti di recente, quindi è veramente un lavoro infatti è vero, mi ero dimenticato questa cosa, ma l'autore aveva già lavorato su Watchmen e aveva già lavorato su, non mi ricordo, Master of None e meno Master of None, esatto, 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 sì, comunque, belle serie e interessantissimo il fatto che quel doppio registro di cui parlavi in realtà è un doppio registro che lui ha nel senso che riesce a fare una roba come Master of None super satirica super sulle righe e dall'altra parte anche invece una roba più seria possibile che appunto era la serie Watchmen infatti, quindi no, forse è mancato un po' il polso registrico, un po' la direzione dell'operazione in generale però ecco per chiudere ho apprezzato molto anche il lavoro sullo snobismo del pensiero intellettuale del protagonista stesso che in qualche modo ci possiamo anche un po' identificare no, quell'atteggiamento non risolto nei confronti del concetto di cultura popolare con il bisogno di essere identificati di fare le cose un po' meglio ma allo stesso tempo senza diventare elitari eliti insomma questo è interessante questo secondo me funziona assolutamente e però purtroppo secondo me in questo passaggio è pesato il fatto che ci fosse troppo tempo dedicato al dramma familiare perché a un certo punto lui si rende conto che è vero io sto prendendo in giro quei neri che fanno i neri per i bianchi fondamentalmente cioè che ballano la loro musica però nello stesso momento lui si ritrova a come posso dire ad avere l'unica possibilità di dialogo esattamente con un'atrice che secondo lui sta facendo quella cosa ma si ritrova ad avere questo dialogo perché è in una stanza con altri tre bianchi che sostengono che le loro idee sui neri non vanno bene e quindi c'è questo momento in cui lui dice ok sì non mi vanno bene loro però quello che davvero non mi va bene è il resto e però è davvero un momento troppo breve nel film cioè ha davvero troppo poco spazio per evolversi quella parte quella linea narrativa e mi è dispiaciuto un po' perché ripeto il film ha delle ottime idee e un interprete straordinario ora basta andiamo avanti perché non finirà mai questo video allora verrà una diretta degli oscar vedrai esattamente arriveremo proprio in coda di mettere gli oscar per montarlo american fiction quindi passato anatomia di una caduta anatomy of a pool che non si chiama così perché è un film francese film francese non candidato tra i film i migliori film stranieri perché i francesi sono delle teste di cazzo questa è una nota a margine che faccio io e hanno deciso di non candidare il film di aspetta non mi ricordo mai come si chiama lei justin trier di se non mi so justin trier se non mi sto confondendo film non candidato dai francesi come miglior film però ripescato dall'academy che lo candida come miglior film in assoluto non miglior film straniero è la storia di una donna di una famiglia il marito muore non si capisce esattamente come è successo se è stato un suicidio come sostiene la moglie o se come sospettano le autorità è stata la moglie a ucciderlo è caduto da una finestra nella baita in campagna in cui si sono trasferiti l'unico testimone l'unica persona che era in casa in quel momento è il figlio cieco dalla nascita no scusate non dalla nascita per colpa di un incidente e niente naturalmente con un testimone così inattendibile il processo è un processo fatto sul come posso dire su quello che la gente immagina di una relazione guardandola dall'esterno e secondo me questo è uno dei temi del film il secondo tema molto forte del film è la relazione tra una donna di successo e un uomo che nello stesso campo non è riuscito ad ottenere lo stesso successo c'è anche il tema della frustrazione lavorativa del marito sono entrambi degli scrittori però il marito non riesce a concludere il suo romanzo mentre la moglie è appunto una scrittrice di successo è un giallo un procedural se vogliamo anche visto che c'è tutta una lunga parte in tribunale c'è una lunga parte in tribunale e l'ho trovato un bel film un bel film sotto il punto di vista della scrittura giallo quasi straordinario perché perché si regge tutto su quello che crediamo sia possibile e su preconcetti che insomma dovrebbe essere il contrario di come procede un'investigazione ma nello stesso momento è come procedono solitamente le investigazioni in un mondo in cui le informazioni vanno a 2000 all'ora e non c'è mai un filtro che ti dice cosa è vero e cosa non lo è cosa ne pensi tu invece beh in questo senso sicuramente è un film sulla post verità guarda sparandolo alta vorrei dirti che mi sembra un po' un incontro tra Bergman di scena da un matrimonio e Rashomon perché riesce a essere un film che scava dentro la la quotidianità della relazione della vita di coppia in maniera molto dolorosa e molto irrisolta ma allo stesso tempo questo discorso va in parallelo con il tema la tesi di Rashomon sull'impossibilità di raggiungere la verità Rashomon è un film di Akira Kurosawa incentrato su un fatto di violenza e di sangue una faccia insomma semplice in cui si sentono una serie di voci testimonianze nel tentativo di ricostruire l'accaduto ma il punto del film è che ognuno porta con sé le varie voci non si riesce individuare cosa è realmente accaduto se non ascoltandone una che non era neanche lì presente perché vabbè non svelavo ulteriormente non serve però è quel tipo di lezione mi sembra applicato al procedurale sicuramente ed è tutta la fase procedurale del film si posa dal punto di vista stilistico dal punto di vista registico le parti nella casa le trovo magnifiche è girato in maniera incredibile il dialogo l'unico vero l'unico momento infatti lì c'è un è il risultato di un nastro che viene ritrovato quindi l'unico flashback reale nel senso che noi possiamo dare un valore oggettivo che quindi è recitato poi in termini di flashback dai due da marito e moglie è veramente sorprendente quella sequenza incredibile però capisco cosa intendi dal punto di vista dello stile ma è un effetto che credo sia voluto poi che il fatto sia voluto funzioni o meno chiaramente poi quello è un altro livello di interpretazione sicuramente secondo me comunque tiene nel discorso complessivo del film ed è un film che devo dire sul momento ho accusato un pochino di più proprio perché non mi aspettavo una componente procedurale così ampia ma più di esamina interna dell'ambiente domestico e invece tornandoci dopo quindi senza aspettative di un certo tipo ma sapendo un po' già cosa andavo incontro è stato ancora più potente e devo dire è un film che mi ha dato molto mi ha dato anche mi ha riportato a Echidil della tragedia classica assolutamente con l'intervento finale del bambino di cui appunto non svegliamo ma c'è tutta una dinamica che è molto molto la tragedia quasi la tragedia greca poi l'intelligenza di come viene costruita la dinamica di coppia quindi il lavoro sul doppio registro linguistico il lavoro sulle frustrazioni accumulate c'è pure il trauma appunto dell'incidente del figlio che è in parte tra virgolette colpa del padre e poi c'è il trasferimento però in una terra in una terra altra che non è quella di lei quindi lei è sempre in deficit linguistico perché lei è la straordinaria Sandra Ruller che è probabilmente la migliore potremmo quasi dirlo sicuramente è una delle migliori attrici europee del cinema di oggi e la ritroviamo oppure poi nel film di Glaser candidata cioè candidata una volta però nel senso in due film tra i migliori appunto tra i best picture nella zona di interesse tra l'altro bravissima perché ci ho messo un po' a riconoscerla ci ho messo un po' a capire che erano la stessa attrice in due ruoli e invece per me erano chiaramente due persone diverse e sì lei è straordinaria sì proprio fuori di testa anche perché per tutto il tempo abbiamo visto il film con mia moglie Fiere Manni e per tutto il tempo abbiamo discusso perché naturalmente il film ti mette dalla parte più voglieristica quella che vuole sapere se lei è colpevole o no se vuole intuire da delle sue espressioni da delle sue reazioni se ha ragione o meno se sta dicendo la verità insomma ti mette in quella scomoda posizione che è la posizione di tutte le persone che di solito assistono a una tragedia e cercano di entrare in un vissuto in un privato che naturalmente è inaccessibile dall'esterno ma visto che tagliamo le cose in maniera molto rosa quando le vediamo le processiamo in maniera molto rosa ci troviamo sempre a fare a voler applicare la nostra mentalità ai rapporti degli altri alle vite degli altri e dicevo appunto con Fiore ci siamo messi a guardare il film e ogni tanto diciamo hai visto cosa ha fatto secondo me perché non è vero dimenticandoci naturalmente che non era una scena reale e le sue reazioni sono le reazioni di un'attrice però è tanto brava a darti una gamma così larga così grande di espressioni di reazioni che ti ritrovi davvero a a pensare che quelle siano reazioni reali di una persona realmente coinvolta in quel fatto di crona quindi ripeto straordinaria la sua performance è un magnifico incontro tra la regista e lei perché riescono veramente a dare una profondità di livelli al personaggio e alla dinamica relazionale veramente incredibile tra l'altro lei lo consiglio ha fatto la regista Justin Trie ha fatto diversi film alcuni un pochino meno altri più riusciti la linea è sempre spesso in qualche modo ha a che fare con la difficoltà a raggiungere la verità o la complessità delle relazioni amorose il primo film è sorprendente la battaglia di Solferino perché racconta la crisi di una coppia in diretta mentre avviene una manifestazione sindacale reale nel senso che loro hanno girato in quel giorno e hanno portato gli attori esattamente là dentro in mezzo dei manifestanti fingendosi apparentemente chi vedeva la macchina presa pensava a dei giornalisti e loro in realtà stavano girando in diretta il film esattamente là dentro utilizzando tutto il contesto si trova su Mubi adesso ed è veramente un film che già indicava che avevamo a che fare con una regista di un certo peso l'ultima cosa magari è che trovo molto interessante come all'interno del discorso si riesca a entrare molto anche la dinamica di genere chiaramente la dinamica di potere perché nel momento in cui il potere con la P maiuscola che è quello del tribunale che è tendenzialmente non solo però tendenzialmente anche maschile va a interrogare la donna nell'interno della vita di coppia va a questionare anzitutto la sua autonomia la sua riuscita professionale cioè tutta una linea del film ha a che fare su quasi ci possiamo ricollegare sul suo ruolo di madre anche esatto a quello che deve essere a quello che deve essere se in American fiction quello che i bianchi si aspettano che i neri siano quasi l'unica cosa l'unico ruolo che si sono disposti quasi ad accettare a concedergli all'interno del dibattito collettivo che è quella rappresentazione di poveracci o di criminali eccetera di tragici allo stesso tempo qui una donna che ha una sua forte autonomia un'identità molto spiccata una sua riuscita professionale cozza non torna qualcosa non va addirittura lei esagera quasi perché ha anche un'identità sessuale che non è definibile in una casella precisa e quindi mette naturalmente nel panico l'occhio di chi la deve giudicare che come dicevi tu giustamente è un occhio maschile in realtà la giudice il giudice è una è una donna che alla fine la giudicherà ma l'avvocato della difesa e dell'accusa sono sono due uomini e soprattutto l'avvocato il pubblico ministero l'avvocato dell'accusa calca decisamente la mano sul ruolo che avrebbe dovuto avere in una coppia normale e invece su quello che appunto fa trasparire di lei quasi a volerla screditare proprio perché ha avuto troppo successo non si è dedicata abbastanza alla famiglia avevano la coppia una vita sessuale che non rientrava nei canoni prescritti dal dal sentire comune quindi è un mostro il risultato il risultato che si vuole raggiungere appunto è la descrizione di un mostro attraverso il fatto che non si accorda con l'idea l'ideale femminile che abbiamo davvero molto 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 bella ripeto tutta la parte di scrittura è straordinaria mi è piaciuta davvero tantissimo tra l'altro ho trovato un un vago parallelo un ponte tra questo film e uno invece che è candidato come miglior film straniero che è l'aula professori l'aula professori l'aula professori si è un film tedesco quindi non mi ricordo naturalmente il titolo originale ma anche là si va a cercare di scoprire una verità partendo da assunti sbagliati e vabbè innesco una dinamica completamente diversa ma stranamente l'ho trovato dei film che che sono fratelli alla lontana è anche è un altro film sulla post verità assolutamente assolutamente tra l'altro là è proprio un'immagine un video a scatenare quel cortocircuito sulla verità però ripeto magari ne parliamo più avanti invece proseguiamo perché questo video è sempre più lungo Matteo allora Barbie la mia idea su Barbie è un'idea che purtroppo nella contesa nel nel dibattito pubblico che accetta solamente capolavoro è una schifezza oppure maschilismo femminismo nel senso proprio riferito a Barbie cioè o sei maschilista o sei femminista e naturalmente la la posizione capolavoro sta al femminismo la posizione schifezza sta al maschilismo quindi non è quasi come se non potessi dire che il film non non l'ho trovato un capolavoro ma mi è piaciuto no maschilismo però quindi vogliamo dire la libertà di dirci maschilisti e questo esatto questa parte la taglio perché se no mi bruciano il canale no a parte gli scherzi l'ho trovato un film che personalmente di cui personalmente non avevo bisogno però voglio farne un discorso anche diverso nel senso che ogni volta noi ci interroghiamo su qual è il ruolo del cinema nei confronti del della politica del del sociale e molto spesso incoroniamo come film perfetti per parlare appunto della figura della coppia film molto difficili da da decodificare per il pubblico ora non voglio manco far quello che dice ah famo i film pure per gli stupidi però è anche vero che se vogliamo parlare del discorso femminista magari abbiamo bisogno di includere in questo discorso anche le ragazzine le ragazzine nel senso bambine e Barbie secondo me in questo riesce molto bene e lo dico proprio per esperienza direttissima nel senso che mentre stavamo vedendo Barbie una bambina si è che vedeva il film con la madre si è voltata verso di lei e gli ha chiesto ma anche papà piange e sembrava una roba tipo staged by Greta Gerwing per per farmi capire che il suo film funzionava su quel livello però effettivamente mi ha stupito il fatto che appunto fosse stato recepito in maniera così diretta in diretta mentre invece per me era proprio femminismo for dummies e forse ripeto era quello che volevo essere cioè un femminismo for dummies che però facesse arrivare il messaggio anche a chi un film tosto difficile da comprendere non se lo vede semplicemente non ce va al cinema a vederlo mentre invece Barbie sono andati a vederlo tutti proprio tutti e quindi per un film che non mi è piaciuto particolarmente a livello di scrittura soprattutto perché l'ho trovata una commedia mal riuscita una commedia che continua a tornare indietro nel meccanismo narrativo e anche proprio fisicamente solitamente la regola prima per un viaggio è si va sempre avanti si torna indietro solamente alla fine quando devi chiudere il cerchio mentre invece questo è un continuo ritornare sugli stessi passi dicevo anche se non è un film che mi ha particolarmente colpito forse effettivamente con la frase più scontata del mondo era un film importante era un film necessario ultima cosa che che voglio dire sul film non sto a dire di cosa parla perché immagino che anche i sassi sappiano di cosa parla forse la cosa che mi che mi insulta un pochino di più è che un film della Mattel che ha chiaramente come intento vendere più Barbie sia assurdo al ruolo di faro femminista l'idea che questi grandi concetti vengano presi e portati nel baraccone capitalista dell'industria che ti deve vendere la roba e utilizza anche il femminismo per venderti la roba ecco forse non sono non è un film pienamente pulito da questo punto di vista seppure sono certo che Greta Gerwing si sia impegnata invece per farlo diventare quello e abbia sentito la tematica di più di quanto la possa sentire io che so un uomo che appunto vedo vedo la cosa da un punto di vista decisamente più distaccato quindi niente queste erano i miei two cents about barbie ultimissima cosa la fair è stato candidato di Ryan Gosling non è stata candidata Margot Robbie allora secondo me pur la candidatura di Gosling non era proprio necessaria mentre invece quella di Margot Robbie la trovavo decisamente pretestuosa perché mentre come film in sé era importante cioè secondo me aveva un senso in quella decina forse avrei preferito la candidatura Greta Gerring che comunque sia fa un lavoro soprattutto su su un certo tipo di utilizzo di tecniche cinematografiche era una roba molto interessante molto più interessante della performance attoriale di Margot Robbie che secondo me stranamente era molto molto poco interessante mentre invece appunto Margot Robbie è un'attrice fantastica ad esempio io sono una delle uniche persone al mondo a cui è piaciuto Babylon di Damien Chazelle e l'ho trovata straordinaria in quella parte di aver dato un Oscar per quella parte mentre invece ripeto non trovo che ci sia tutto sto scandalo nella sua esclusione come miglior attrice anche viste le migliori attrici candidate che insomma hanno fatto delle performance decisamente più fiche e ripeto strano che in un dialogo femminista ci scordiamo che ci stanno delle altre candidate donne che non dovevano essere candidate perché simbolo femminista ma lo sono cioè nel senso cavolo sono una straordinaria attrice mi hanno candidato perché sono una straordinaria attrice donna come Margot Robbie vabbè comunque sia niente ripeto sono proprio giusto due cose da dire sul film che non mi ha insultato ma non ho trovato neanche così straordinario guarda ci sarebbe da parlarne tanto sicuramente perché è un film molto cioè se non molto ricoffre moltissimo in termini di dibattito di punti di riflessione credo che in realtà nel tuo discorso in cui io mi ritrovo possiamo cioè in parte non del tutto non al 100% però mi ci ritrovo l'idea in generale è quella del cavallo di Troia nel senso che io quindi vesto un film tutto puccioso rosa che sfrutta un brand per bambine tra virgolette o comunque una merce per veicolare un femminismo un ABC del femminismo che possa quindi arrivare a colpire dove in modi anche inaspettati e il film da questo punto di vista sicuramente un'importanza una sua riuscita il punto forse sta qual è il costo di questa riuscita cioè qual è il prezzo che il film deve pagare affinché questo aspetto in parte funzioni e credo che che paghi abbastanza da diversi punti di vista anzitutto in relazione a Mago Robby credo che il discorso si spieghi perché il film non è che è scritto male però è scritto con delle ingerenze delle necessità molto molto forti molto molto smaccate che perdono il cinema nel senso che nel film Barbie il cinema dov'è? è in Ken ed è un po' un paradosso però il problema è che il personaggio le immagini che sono in grado di restare nella memoria di diventare immaginario collettivo non è Barbie ma è Ken sia perché Ryan Gosling ha un carisma che vabbè cioè anche si si è mangiato il film però il fatto è che il film ha i presupposti affinché ciò accada perché lui è il personaggio libero lui è il personaggio che incarna la linea più sfacciatamente comica la linea più grottesca tutto il discorso sui cavalli sui west sull'immaginario cioè è un film che riesce molto meglio a nel far sposare la potenza del cinema dell'immagine la sua autonomia linguistica artistica con alcune importanze del discorso quando va a smontare i dinamiche del massimismo esatto lì funziona da dio da dio infatti paradossalmente fa un lavoro migliore appunto nel demolire quell'idea di macio piuttosto che crearne una nuova di donna indipendente esattamente esattamente proprio quello il punto mentre invece il discorso femminile è molto più ancorato limitato da una didattica e poi questo senso della didattica cioè barbie è il personaggio che deve veicolare il messaggio mentre quello di ryan gosling ken è più libero in qualche modo e poi il problema è che questo messaggio viene veicolato in forma di piccolo instagram cioè è un film che è già pensato per diventare rail per diventare meme e infatti è diventato subito è proprio il quando non le forme del dibattito tu le porti verso il tema quindi verso l'alto ma il tema che lo fai precipitare verso il basso sperando che questo non abbia poi effetti sulla potenza la profondità l'intelligenza con cui affronti quel tema e invece gli effetti ce l'ha e il risultato è che comunque se va a toccare a smuovere a innestrare una serie di ragionamenti però poi sembra un film veramente pensato per il dibattito in forma social e questo è davvero un male e soprattutto questo non gli permette ma non ci prova neanche ad affrontare la macro contraddizione forse risolvibile che è quella del natura mercificata del film il fatto che sia comunque un enorme spot però il problema è che come affronto io questa soluzione che non cioè questa situazione che non posso risolvere o che fanno si limitano a citarla dicono ok sì questo film ha questa contraddizione l'abbiamo detto a posto ora possiamo fare finta di niente e tirare dritto uguale e poi e qui proprio per me è allucinante rendono l'inventrice di Barbie una sorta di icona femminista e questa roba qua è allucinante cioè stiamo parlando comunque di un pezzo di plastica venduto e che porta con sé tutto un impianto di immaginario che ha un ruolo ma che comunque è sempre parte di un meccanismo di produzione cioè Barbie è veramente il perfetto specchio dei tempi in cui tornando alle contraddizioni delle battaglie woke delle guerre culturali che diciamo prima ci possiamo accontentare o sentiamo che in qualche modo sarà raggiunta una vittoria se la Nike ci fa la pubblicità gender free o comunque insomma attenta alle dinamiche di genere e cose del genere come per esempio adesso su basket con i migliori giocatori di basket del tiro alla tre no? vabbè non approfondisco per non deviare se no davvero però nel senso che Amazon non vede l'ora di farti la pubblicità a carco baleno però se da una parte possiamo dire che è un successo il fatto che affrontare certi temi venga reputato un'altra pubblicità popolare e commerciale quindi dici ok bene dall'altro però il pericolo di sussunzione è lì davanti a noi è è proprio sono le fauci che si spalancano e dobbiamo fare attenzione perché la verità profonda è che allora non gliene frega niente che tu ti identifichi in un modo o nell'altro binario o non binario quale sia il tuo orientamento lo spettro del genere sessuale qualunque cosa l'importante è che copia Amazon e quello non è che va tanto bene anzi è il nemico numero uno la situazione quindi sì non dovevo dire sono i nostri link sponsorizzati ma vabbè a parte questo però il problema è proprio lì no e Barbie mi sembra che caschi proprio totalmente dentro il tranello e portandosi non a caso dietro delle armi di femminismo 2.0 che nel senso la seconda ondata di femminismo quella degli anni 60 che ha chiaramente un'infinità di pregi ma che non era né in grado perché i tempi erano diversi né parte delle intenzioni di porsi una serie di problemi cioè il film per esempio si espone a che io possa sentire o meno però lo vero e oggettivo sta là dei pelicoli di eventuale di una denuncia twerf per esempio perché Barbie diventa donna nel momento in cui ha una vagina e sta roba è contro tipo metà due terzi del pensiero femminista contemporaneo è grottesco come questa roba qua passi per veicolo di grande femminismo perché in realtà porta contro un binarismo di genere maschio-femmina che è ancora il genere all'orientamento sessuale il genere il binarismo alla sessualità biologica no? al sesso biologico ed è proprio quello contro cui combattono moltissime voci oggi contemporanee cioè forse qualcuno che non si vanno in binary trans o qualunque cosa Barbie è profondamente offensivo cioè è assurdo è grottesco no ma infatti il problema di abbassare abbassarsi a un livello molto popolare di comunicazione è che naturalmente con problemi complessi come la dinamica di genere come lo stesso sentire del femminismo naturalmente devi abbassarlo io però capisco anche il difficilissimo compito che ha un regista uno sceneggiatore quando deve ripeto veicolare problemi molto complessi molto sfaccettati ad un pubblico più vasto possibile perché in realtà ci sta anche questo cioè noi quando dicevamo del di american fiction in cui c'è una sorta di elitismo elitarismo elitismo del protagonista che si accorge anche che forse sta un po' facendo appunto il grande professore che guarda dall'alto tutto il resto del mondo il rischio è quello cioè di rinchiudere il dibattito sul femminismo sul sull'autodeterminazione su tutto quello che vuoi solamente all'interno di un circolo culturale in cui per avere la testa di ingresso bisogna avere una laurea bisogna essere informati acculturati preparati mentre invece forse bisognerebbe inserire in quel dialogo anche chi quegli strumenti non ce l'ha ce l'ha smussati da un un battage politico pubblicitario che praticamente te dice che se voti trump allora non devi essere femminista oppure se sei una donna non te ne devi frega niente dei diritti delle altre donne e quindi appunto proprio per far entrare un certo tipo di pubblico che non ci sarebbe entrato se fossero state sviscerate tutte le sfumature di quel di quell'argomento ripeto secondo me in quello il film fa il suo lavoro poi lo fa male perché è impossibile farlo bene a quel livello cioè è come se con una mazza da baseball devo colpilla il davide di michelangelo no però ti posso dare un'idea di quello di quello che sarebbe dovuto essere so valutare se sono più i rischi di questa operazione piuttosto che i risultati positivi di questa operazione non penso che sia anche una valutazione possibile nel breve termine però sono d'accordo con te sul fatto che ci siano dei rischi nell'abbassare nel semplificare nell'esagerare la semplificazione tant'è che secondo me ha avuto un sacco un sacco di presa tutto il discorso pubblicitario su Barbie cioè che appunto è diventata agli occhi di tutta questa nuova generazione un'icona femminista mentre invece non lo è cioè non lo è non nel senso che sono un maschio bianco che vi sta spiegando che non potete averla come icona femminista ma semplicemente perché è legata a una dinamica capitalista produttiva che non deve avere niente a che fare con appunto una dinamica invece sociale e il rischio è che quando tu demandi alla macchina produttiva la lotta di genere la macchina produttiva funziona fino a quando i soldi stanno da quella parte nell'esatto istante in cui vede che i soldi stanno da un'altra parte niente della lotta ma proprio niente si fanno soldi così ok allora continuiamo a pestare su questo su questo tasto smettiamo di fare i soldi ciao capisco capisco assolutamente i tuoi dubbi li ho anch'io forse sono leggerissimamente più positivo di te anche se ripeto vedo tutti tutti i limiti e i pericoli di di una cosa del genere chiudiamo su Barbie andiamo avanti perché se ne potrebbe parlare per dieci ore e non abbiamo tempo allora coscienti che avendo espresso dei dubbi per larga parte del pubblico ora siamo maschilisti o comunque sia uomini bianchi che cercano di spiegare il femminismo alle donne cosa che giuro non vogliamo fare vogliamo solamente dare la nostra opinione questi sono i sottotitoli aggiuntivi alla discussione coscienti anche del fatto che se ne potrebbe parlare per molto di più e ne dovremmo forse parlare per molto di più per evitare quelle semplificazioni di cui dicevamo prima dobbiamo comunque andare avanti perché questo video prima o poi deve concludersi e passiamo da Barbie a Holdovers Holdovers film di Pain che è uno dei registi che adoro di più cioè nel senso che non c'è un singolo film che abbia fatto che a cui non voglia bene cioè proprio voglio bene i film di Pain e non so se è una cosa solo mia ma è uno di quei registi che riesce davvero a parlarmi di umanità in tutte le sue forme li li trovo film estremamente umani voglio bene ai suoi protagonisti voglio bene a Paul Giamatti proprio proprio a Paul Giamatti non al personaggio di Paul Giamatti voglio bene a Paul Giamatti questo è un film che racconta la storia di questo studente in una scuola d'élite negli anni settanta sbaglio inizio anni settanta è una scuola d'élite quelle classiche con le giacchette e le divise scolastiche in questa scuola ci sono quasi solamente figli di papà il secondo protagonista il coprotagonista forse anche l'attore principale in realtà del del film è un professore che invece viene da un'estrazione culturale decisamente diversa che detesta il privilegio dei suoi studenti un professore molto molto duro che vive solamente per il suo lavoro che è rimasto forse anche incastrato in una posizione meno importante di quello che avrebbe voluto schiacciato anche un po' da appunto da queste dinamiche sociali appunto lui non è ricco non è mai stato ricco e quindi non è mai riuscito a entrare in quel club anche se ha studiato nella stessa scuola in cui insegna e è la storia di questo rapporto strano che si crea tra questi due personaggi quando il ragazzo viene costretto dal fatto che la madre si sta risposando e vuole passare la vigile di natale con il suo nuovo compagno dicevo viene costretto a rimanere a scuola rimane a scuola e l'unica altra persona che rimane a scuola con lui le uniche due persone che rimangono a scuola con lui sono la cuoca e questo professore che appunto è lo spavoracchio di tutti gli studenti e che sembra non avere una vita privata oltre a quella che impiega appunto per rendere la vita un inferno a tutti i suoi i suoi alunni è una classica storia di scoperta vicendevole tra due posizioni completamente opposte che invece poi si riescono a riunire a trovare un terreno comune in realtà diventa quasi una una storia a tre perché non a tre nel senso di una storia d'amore a tre ma proprio una storia di una relazione una relazione a tre tra questo professore il suo studente e la cuoca l'unica l'unico membro del personale scolastico che rimangono in quella scuola rimangono tutti e tre per dei motivi diversi tutti e tre per motivi molto molto legati ai loro personaggi al vissuto dei loro personaggi e la scoperta vicendevole tra queste persone in realtà arricchisce tutti e tre tutti e tre i personaggi io l'ho trovato un film delizioso bellissimo e secondo me continua Pain a sfuggire alla possibilità di ottenere dei premi proprio perché i suoi film hanno un primo livello così lieve così piacevole che tendono a essere un po' squalificati dalla loro stessa fruibilità cioè è troppo facile mentre invece secondo me è difficilissimo realizzare film così concreti così profondi così belli e nello stesso momento appunto così eccezionalmente leggeri fruibili da qualunque tipo di pubblico e niente quindi questi erano i miei quello che pensavo del film cosa ne pensi tu? beh intanto credo che davvero Cina di Pain in particolare questo film ma non solo sono i perfetti film che possono piacere in maniera profonda proprio fino all'amore nei loro confronti negli sceneggiatori non mi sorprende che ti piaccia nel senso ma lo dico nel miglior senso del termine perché Pain oltre a essere in realtà un è considerato uno dei dottori di sceneggiature più importanti e bravi di Hollywood nel senso che lui corregge gli script di altri passando sotto traccia non firma non firma questi interventi semplicemente interviene il sistema dove non funziona è uno dei migliori sceneggiatori in circolazione da questo punto di vista cioè nel senso i suoi film sono perfetti cioè è proprio difficile trovare dei punti di attacco nei meccanismi di gestione narrativa diciamo una ribarge degli andamenti anche vettoriali qui è perfetto cioè Pain è un maestro da questo punto di vista anche il lavoro come diciamo prima sui personaggi è proprio fuori di testa è incredibile ho sempre quando dicevo che voglio bene a Paul Giamatti in realtà è che vuoi bene ai personaggi di Paul Giamatti perché sono delle persone cioè nel senso hai proprio l'impressione che non ci sia lo sceneggiatore dietro perché quella è la vita di una persona nessuno può simulare quella complessità e invece invece si sei molto bravo esatto cioè è proprio il massimo della tecnica quando va nella direzione della scomparsa nella negazione di se stessa e quindi diventa proprio l'apparenza della vita dello specchio della vita e Pain in questo ci riesce molto molto bene e io oppure io li voglio molto bene per questo cioè sono consapevole che sia un cinema c'è una linea chimica che da un po' di anni ha identificato questo tipo di cinema come indie food cioè quando l'industria l'industria esatto l'industria va a fare si impossessa anche qui parliamo di sostunzione cioè si impossessa del registro dei temi del parco tematico dell'aspetto dell'indipendente e quindi lo assorbe in qualche modo Pain c'è da dire è questa roba qua perché comunque i suoi film sono prodotti da Fox Searchlight quindi sono le linee delle grandi produzioni dedicate all'indipendenza tra virgolette però faccia il film per faccia i vincere Sundance perché vogliamo anche quello però c'è la magia dietro di riuscire cioè nonostante questo forse proprio per questo a fare dei film che racchiudono un'umanità enorme cioè nel senso proprio io lo adoro Pain perché cioè quando lo vedo so dissistere a un certo tipo di gioco ma è un tipo di gioco a cui decido di partecipare cioè che voglio seguire perché amo il cinema americano perché amo il cinema hollywoodiano come ne amo tutte le sue decostruzioni come posso amare Todd Solons la sua follia l'indipendente senza sconti degli anni 90 o questo Armory Corinne contemporaneamente però posso amare e amo moltissimo il cinema che invece gioca totalmente le carte di quella situazione resta totalmente dentro quei binari non fa nulla di avversivo non fa nulla che possa rischiare di allontanare lo spettatore è un comfort movie totale però Cristo come lo fai bene cioè sei proprio magnifico mi costruisci casa e ogni tanto serve che qualcosa sia casa no? qualcosa di quello che vediamo cioè Pain ti fa casa e comunque non sacrifica ma anzi questa casa la costruisce sull'intelligenza emotiva di personaggi in cui tu ti ritrovi al 100% e con una confezione meravigliosa anche quella impeccabile impeccabile cioè è un film infatti io ho diversi amici critici che non entrano al 100% ne riconoscono la perfezione formale ma dicono è un film troppo perfetto come meccanismo per riuscire ad amarlo o perdermi eccetera posso capire quel punto di vista però invece sono lì quelli che accetta quel tipo di situazione accetta quel terreno di gioco e lì dico sì ok ma mi hai mi hai preso mi scorteggi e ce la fai perfettamente perché sento che le tue intenzioni sono comunque quelle che amo che sono disposto e sono pronto ad amare guarda io penso che la la grossa ci sia una grossa differenza tra quando un film viene fatto alla ricerca dell'approvazione ma viene fatto alla ricerca dell'approvazione come posso dire provando a barare cioè provando a tagliare gli angoli della serie faccio un focus group per scoprire se tale cosa funziona in tale modo si vede tantissimo quando viene fatto si vede quasi come quando metti un foglio attaccato al vetro cioè leggi quello che c'è dietro mentre invece con Pain io non so effettivamente non posso mettermi nella sua testa ma ho il sospetto analizzando la sua scrittura che in realtà lui abbia proprio un piacere nella scrittura cioè si vede che non è una cosa fatta per piacere ma per renderlo al massimo piacevole che lo so che sembra proprio un'inezia di differenza ma quando sto provando a farmi piacere è diverso da quando mi sto rendendo piacevole non so se si capisce se si capisce la differenza o se sembro pazzo ma sostanzialmente c'è un'onestà dietro che manca invece appunto ai tentativi più barbari di fare il il people pleaser il il film comfort per forza cioè o meglio ci riesce in maniera così straordinaria che ci credo ci credo che effettivamente il film lui lo voglia fare così e poi ripeto purtroppo sono debole in questo nel senso che occupandomi per lo più di scrittura di sceneggiatura quando vedo la maestria nel nello scrivere ad un livello davvero boh forse un altro che che arriva a tali vette di competenza nel nella nello sfruttare il mezzo forse Sorkin cioè un altro di quelli che è tipo lo sceneggiatore degli sceneggiatori lo fa in maniera più più cattiva Sorkin è più una valvola impazzita però appunto non penso che ci siano ad Hollywood attualmente sceneggiatori che riescano in quello che fa che fa Pain nel suo lavoro su trame a orologeria perfette personaggi super super approcciabili e nello stesso momento incredibilmente profondi per essere così facilmente approcciabili perché appunto quando si parla di complessità di solito si si tende a creare comunque una distanza nel senso che per raggiungere quel tipo di complessità devo fare un lavoro uno sforzo anche come spettatore cioè per entrare in in quel tipo di complessità invece qua è tutto organico arriva la scoperta del personaggio è così ripeto naturale che ti viene da pensare che siano delle persone vere è proprio il trucco la magia più bella della di quel tipo di scrittura cioè sparire completamente e tra l'altro ingannare rendendo la visione del film semplice ingannare dicendo è un film è un filmetto è così semplice è impossibile è un film impossibile da scrivere ed è quello che dicevo prima che secondo me non arriverà mai ai premi perché non si vedono i muscoli nella sua scrittura e invece è tipo il bodybuilder più grosso del mondo sì è nascondersi in piena evidenza proprio in piena vista ha questa grande capacità e poi beh un film così non gli si può voler bene perché appunto dicevamo all'inizio del video è un omaggio tutto cuore a Holden a Salinger e viene anche citato in un momento molto bello il titolo originale di Holden The Catcher in the Rye proprio solo il pane di segale ed è un film che comunque gronda quel tipo di letteratura quel tipo di attenzione umanista alla letteratura americana e che gioca con quell'ambientazione dei collegi invernali del New England che io ci vivrei dentro quei film sì amo amo quella la verità sicuro che ad esempio te ricorderai aspetta eccola ricorderai Shabon e Wonder Boys bellissimo e tra l'altro grande film ma anche grande adattamento di Carton Harris con Michael Douglas adorabile e quella è proprio l'ambientazione che amora morire cioè quel tipo di contesto invernale quello è il comfort proprio totale no? cioè per me almeno se devo immaginare una roba del genere ancora di più della casa tutta luccicosa di home alone di mamma perso l'aereo il vero comfort bravo c'ho la stessa visione un colpo di mercatino da non non da poco considera lo tengo sullo scaffale di fronte a me quindi puoi immaginare che corde ha toccato anche Oldovers proprio ma proprio facile come ha vinto facilissimo stavo là tipo cane facendo vai fammi le coccole esattamente e poi è proprio questo il bello cioè che quella roba là e tu e però percepisci quella quella spontaneità per cui dici sì fammi le coccole cioè io voglio che questa cosa succeda percepisco che quello è un film per farmi le coccole nel senso comunque un comfort un feeling good movie a racconti fatti sì sì e però che mi fa soffrire mi fa avvicinare cioè tutto proprio il percorso perfetto da manuale no? di sceneggiatura di racconto il viaggio dell'eroe è la perfezione col punto di vista però è talmente anche umano che dico sì cioè lo voglio manipolami come spettatore voglio essere manipolato dal punto di vista spettatoriale e subire questo film perché mi fai sentire cioè mi fai sentire bene mi fai sentire umano parte di un qualcosa parte di un'umanità niente continuiamo a parlare per 20 minuti di ogni film quindi questo sarà un video infinito quindi ti vieto di dire qualcos'altro su Holdovers e andiamo avanti quindi passa Holdovers e abbiamo Killers of the Flower Moon di cui diremo solo è bello andiamo avanti allora guarda ti dico c'è stata un'intervista a Schröder Schröder sì Paul Schröder Paul Schröder non lo pronuncerò Schröder 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 è quello dei gatti esatto che ha detto che per lui era stato un film insostenibile perché non puoi girare tutta l'attenzione mettere il focus del film su un idiota per due ore ma che comunque se dai 150 milioni di dollari a scorsese fa un grande film allora io non sono d'accordissimo con lui anzi ho trovato che il cambio in corsa che c'è stato su Killers of the Flower Moon per chi non lo sapesse Killers of the Flower Moon parla di una storia vera tra l'altro contenuta in un romanzo saggio davvero molto bello che si chiama gli assassini della terra rossa gli assassini della terra rossa bravissimo e dicevo che parla di una strana strana storia perché questa tribù di indiani che come tutti gli indiani d'America tutti i nativi americani è stata trascinata da un posto all'altro da una riserva all'altra alla fine è finita per trovarsi con il culo sopra i più grandi giacimenti di petrolio all'epoca e diventare la l'etnia più ricca di tutta America non vedendo praticamente nessuno dei diritti fondamentali del BOMO riconosciuti per loro anche essendo ricchissimi perché naturalmente i bianchi americani hanno fatto di tutto per strappargli quella ricchezza hanno messo tutti i palletti possibili nel romanzo spiega anche proprio concretamente che la valutazione che veniva fatta su ogni singolo membro della tribù consisteva praticamente nello scoprire quanti antenati nativo americani avevano se la percentuale di sangue nativo americano superava il 30% sto dicendo le cifre a caso gli veniva affiancato un bianco che prendesse decisioni per lui perché non era considerato capace di intendere e volere perché è troppo nativo americano ecco questa è un po' la situazione e quando dicevamo che i bianchi hanno trovato tutti i modi per levargli quella ricchezza uno dei modi che è stato trovato è stato ammazzarli iniziare a ammazzarli tutti nei modi più efferati possibile sterminarli fisicamente in un mondo che non era quello del west in cui i diritti fondamentali dei bianchi esistevano già la storia che che racconta il romanzo è quella dell'investigazione che che è iniziato dopo che queste morti sono diventate un po' troppo evidenti la gente continua a finire nei fossi avvelenata ammazzata sparata e il nascente FBI perché era proprio un neonato al tempo si inizia a interessare del caso e c'è appunto questa investigazione che porta alla scoperta non è uno spoiler penso perché insomma sono fatti noti appunto alla scoperta che questi indiani venivano fatti fuori per prendere la loro terra le loro concessioni petrolifere tutta la storia doveva avere quindi come protagonista questo investigatore dell'FBI che va a scoprire la verità l'investigatore doveva essere Leonardo Di Caprio ma arrivato sul set arrivato a lavorare con con la materia prima di questa storia scorsese alla bellezza di 85 anni che potrebbe appunto fa sei film sereno e beato decide invece di cambiare completamente la prospettiva dare a Leonardo Di Caprio un ruolo diverso è il marito di una delle donne nativo americane che ha una concessione e che è la prima che inizia a sollevare il problema a dare l'allarme sul fatto che appunto sembra che qualcuno stia cercando di eliminarli per prendersi la loro terra e rivoluziona completamente il film per me già solamente questo è stato un punto d'amore per per il film e per scorsese che ripeto alla bellezza dei più di 80 anni fa una roba che probabilmente si si può permettere perché è scorsese ma dall'altra parte non gli è dovuta proprio perché è scorsese cioè grande proprio produttivamente nel senso che è un film in costume che ci riporta in maniera puntuale a quel mondo è un film fatto di grandi immagini è un film fatto di dolori e di lutti all'inizio e alla fine del film si apre e si chiude con un funerale è un film funereo anche da quel punto di vista è un film pesante volutamente pesante anche dal punto di vista del ritmo perché sembra quasi volerti dire non è facile accettare quello che è stato fatto in quegli anni che continuiamo a fare verso un popolo che era era lì e poi il giorno dopo era rinchiuso nelle riserve e poi addirittura quando quelle riserve ci sono piaciute ci siamo andati a prendere anche quello ripeto è un processo davvero faticoso e duro e penso che volutamente Scorsese non faccia sconti su questo ed è forse stato anche il motivo per cui molti l'hanno percepito come un film difficilmente digeribile anche appunto il suo amico sceneggiatore Paul Schroeder che tra l'altro consiglio di seguire consiglio di seguire su facebook perché è veramente straordinario ormai gliene frega più niente non appena sulla lingua fa dei commenti dopo sversanti tipo di di un ha detto una cosa allucinante tipo se di un tre fosse realizzato con l'intelligenza artificiale che cosa succederebbe ma soprattutto riusciremo ad accorderci la differenza rispetto a di un due dove sarebbe la differenza rispetto cioè è veramente spietato ho degli amici che l'hanno ospitato al festival ad Avellino qualche mese fa l'hanno avuto come guest star del festival ed è davvero però è lucidissimo è un grande cioè proprio un vecchio borbottone però è ancora una lucidà pazzesca e vabbè non ci dilunghiamo ma il suo cinema recente è magnifico cioè ha fatto ultimi film che sono veramente la trilogia della redenzione è straordinaria ma vabbè no Killers of the Flavio Moon è un film sì potente penso che sia proprio un aggettivo adeguato io devo dire ci dovrei ritornare a distanza comunque di qualche anno come bisogna fare sempre però comunque buoni ricordi buone varie di buone idee anche di di un grande Killers aspetta aiuto il precedente Irishman Irishman Killers Irishman ho delle buone ho sicuramente le buone opinioni di Irishman però sono consapevole anche che fosse un film forse cioè letteralmente il film più televisivo di Scorsese è un film in qualche modo controllato un po' addomesticato ecco anche per l'alternanza di primi piani cioè Netflix ha voluto un film televisivo e un pochino lo ha avuto nonostante sia tipo abbia gli ultimi 40 minuti che sono tra una delle cose più belle fatte da Scorsese un film con senso di morte molto importante però qui è diverso qui Apple voleva giocarsi carte diverse gli ha dato una libertà diversa staremo ancora a vedere voleva il cinema Apple eh sì 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 assolutamente vedremo quanto questo continuerà a succedere nel prossimo futuro io credo non molto perché non a caso il film in realtà è stato distribuito dopo la sala in esclusiva su Prime Video non su Apple il che la dice lunga ha su quanto poco creda Apple per quanto riguarda eventuali premi il film e B su quanto il film abbia avuto poco ritorno economico e qualcuno avesse bisogno evidentemente poi di ripareggiare i conti ma lì c'è tutto un discorso tra lo streaming la sostenibilità dello streaming e di queste operazioni autoriali che è molto delicato io credo che ne vedremo meno di operazioni di questo tipo ma ha detto eh? ha detto sospetto anche io visto che poi a riuscire a fare i soldi sulle piattaforme di streaming che sono invece prodotti decisamente più eh come posso dire televisivi cioè che poi non so neanche perché dovrebbe essere sbagliato però sì effettivamente è che buttati in una in un'offerta così vasta effettivamente non quella autorialità viene diluita nel mare magnum della proposta e poi soprattutto è una proposta che va velocissima cioè se anche per quella settimana effettivamente tutti se guardano Scorsese perché è Scorsese la settimana dopo è sparito è arrivato un Korean drama e tutti si andranno a guardare il Korean drama senza differenza tra l'uno e l'altro no certo è proprio uno dei problemi grossi delle piattaforme infatti ma netto di ciò è così Killers invece è un film fortemente cinematografico con una grande potenza e si vede che qui Scorsese percepiva anche se lì era un po' fare conti con il proprio passato con una propria narrazione novecentesca il gangster movie era un film che guardava più all'interno del proprio percorso Irishman quello invece c'è proprio un senso di responsabilità storica come dici che lo investe personalmente tant'è che nel finale lui si mette in scena in un momento quasi di arcologia dei media veramente delizioso in cui ricostruisce l'effetto di alcuni spettacoli teatranti che mimavano la percezione cinematografica con dei suoni lui fa proprio l'imbonitore sul palco in persona non è solo un cameo divertito secondo me lì c'è proprio un discorso comunque di percepire un senso di responsabilità tenendo presente che sei un regista bianco che va a raccontare la storia di un'altra popolazione e infatti lo shift del punto di vista che dici tu pur non portando totalmente dentro avvicina di molto il punto del focus del racconto cioè non siamo non è un racconto di genere se no sarebbe veramente diventata materia anche per una grande miniserie esploratrice esplorativa di quella situazione di quel caso di cronaca quasi un true crime invece no qui ha a che fare proprio con gli abissi dell'umano sentire cioè l'abissi proprio dell'avidità e soprattutto la forte e disumana convinzione che sta al centro di certa identità americana che la ricchezza sia qualcosa che spetta ai bianchi che anche se nasce da un terreno apparentemente non loro il personaggio di Deniro in questo straordinario è palese come sia quasi una dinamica avversiva quasi qualcosa di contronatura il fatto che a detenere il controllo della ricchezza siano delle persone non bianche è proprio un effetto anche della logica del protestantesimo dell'idea del calvinista che essere la ricchezza è l'esibizione dell'essere ben voluti da Dio alla fine questo è il calvinismo ed è uno dei principi cardine poi della della logica purità americana delle nuove colonie e quindi i ricchi erano ben voluti da Dio quindi come te la spieghi che poi essere ricchi sono dei senza Dio selvaggi qualcosa non va quella situazione va risolta è un problema da risolvere ed è questo che il film riesce a mettere a fuoco benissimo con una forza che mette come il miglior scorsese ti mette proprio a disagio perché ti porta veramente a contatto diretto col male e con dei momenti magnifici tipo i confronti quelli in in prigione o i processi di avvenenamento graduale sì che tra l'altro è proprio il momento in cui si esprime al massimo quello che hai detto cioè anche quando stanno in prigione quindi quando il loro stesso sistema di regole sta decretando il loro fallimento De Niro c'è un minuto in cui pensa che potrà davvero finire male perché è un bianco è un bianco che sta riportando le cose come dovrebbero essere quindi paradossalmente non ha fatto nulla di male cioè non c'è mai un momento in cui lui si identifica con il cattivo non è un cattivo autocompiaciuto no no cioè sta facendo il giusto anzi gli ha fatto pure un favore a loro cioè li tratta bene nel nella sua ottica è davvero un film terribile da questo punto di vista e secondo me è anche poco compreso nel senso che quello che è stato detto è vabbè ancora quindi un'altra volta un bianco che racconta una storia che non è sua e comunque per quanto cambia il punto di vista è che un bianco sono dei bianchi i protagonisti però io trovo che quello sia anche forse il momento di pudore di di un bianco che racconta una storia non sua cioè lui non può mettersi dietro gli occhi di un un nativo americano però ti posso far vedere l'orrore dei miei esatto della mia parte quindi quindi ripeto per me è stato un film davvero bello duro da bianco con tutti i privilegi del caso con me ha fatto ha fatto il suo sporco lavoro ecco infatti e poi giusto per lanciare una micro sponda alla questione ma che non possiamo approfondire se no davvero arriviamo agli oscar del 25 adoro come ha gestito il personaggio come lei poi è riuscito a farlo suo chiaramente a prendere posizione dentro il film di di dick ledstone che è straordinaria e lì davvero mi ricordo la stupidità perché alla fine di questo parliamo o comunque la cecità meglio perché non voglio essere però la cecità di chi andava a giudicare di Irishman per il fatto che il personaggio della nipote non avesse troppe non avesse praticamente battute nel corso del film e il film fosse che poi era interpretato da Anna Pachin e il film fosse in qualche modo anche maschilista per questo senza rendersi conto che il mutismo è la posizione morale cioè tutto nello sguardo ugualmente di dick ledstone dice molto poco nel corso del film cioè in termini di battute non ne ha quasi così tanti è un film molto verboso molto lungo ma in realtà è totalmente indispensabile la sua presenza perché è lì che cita il cinema lì torniamo a discorso volendo anche i barbi il cinema vive negli sguardi di lei nel senso quasi di pietas che c'è in lei quella caratura morale quella è il centro morale del film assolutamente assolutamente sì assolutamente sì e Scorsese questo lo sa benissimo da cattolico comunque qual è come probabilmente si sente sempre di più invecchiando come può essere normale che sia Silence già ce lo diceva è evidente che per lui lì c'è la salvezza lì c'è il punto di ed è l'unico modo che sentiva evidentemente come dicevi te di portare di dare spazio a uno sguardo che non fosse quello bianco lì riusciva a farlo perché evidentemente percepiva un'assonanza in termini di umanismo religioso senza che lei sia necessariamente una figura religiosa è evidentemente una figura sagra quello è un contenitore è un veicolo del sacro e rende ancora più disumano l'atto di DiCaprio quindi io trovo bellissimo la centralità che sta avendo adesso lei ha ricevuto già sta iniziando adesso a ricevere premi importanti nonostante chiaramente a Maston si sia mangiata all'inizio molto della visibilità di quel palco perché ci sta e credo che potrebbe vabbè non ci imbarchiamo magari nei pronostici però sarebbe bello vederla insomma certificata anche da questo punto di vista con un premio una statuetta perché è perfettamente consono con l'operazione del film secondo me sì sì no ma poi sai ogni tanto si si parla di quanto gli Oscar cerchino di lavarsi la coscienza dando premi mirati proprio per per questioni simili ecco questo non sarebbe il caso nel senso che come diciamo è stupido fare il conto delle battute per decidere se un personaggio è importante o meno in una narrazione che dovrebbe avere come aspetto primo quello visivo ne parlavamo rispetto a dune su questa sorta di dittatura della sceneggiatura che ripeto sono sceneggiatura quindi dovrei essere l'ultimo a parlarne e invece la sento sempre di più l'immagine è parte preponderante del cinema e Lily Gladstone riesce davvero a recitare con con il fisico con il corpo con lo sguardo e lo fa rubandosi la scena con DiCaprio e De Niro accanto perché c'è anche questo da dire cioè è difficile non essere schiacciati da personalità simili eppure ci riesce alla grande non solo ci riesce alla grande ma per tutto il film hai proprio ricerchi la sua approvazione tu stesso da spettatore ricerchi il suo sguardo per capire il film per capire dove sta andando la storia sarà lei a prendere davvero le decisioni su quel su quello che sta succedendo te ne rendi proprio conto proprio perché lei riesce a vedicolarlo in maniera perfetta quindi sì sono d'accordissimo con te sarebbe sarebbe una bella statuetta quella Lily Gladstone e poi non ultima cosa non voglio chiaramente sminuire diciamo l'importanza e il ruolo del mi viene in mente il Bechdel test Bechtel Bechtel sì sì quello il test la quantità di che si scambiano due donne all'interno di un film per capire quanto c'è di di femminile in quel film e verifichi e verifichi che effettivamente la gran parte del film non hanno una situazione in cui due personaggi femminili dialogano tra loro senza delle battute che riguardano solamente i personaggi maschili non presenti certo c'è anche c'è anche poi da dire che questo test continua comunque a fare leva su un dualismo che in realtà continua a non esistere che non è mai esistito nella rappresentazione cioè prendi la trilogia del signore degli anelli scritta da due donne che scrivono solo personaggi femminili ma come fai a dire che non esiste il femminile in una storia scritta da donne quindi boh ripeto proprio perché il cinema in rappresentazione è difficile applicarlo in maniera scientifica quel test si ma nasceva poi per un intento ironico di denuncia no non letteralmente scientifico infatti la sua efficacia è proprio lì nel sollevare questioni nel sollevare dubbi e farci vedere un'evidenza sotto il naso a cui non è mai prestata attenzione il problema è il tranello sta nel momento in cui eventualmente noi ci dimentichiamo che abbiamo a che fare col cinema e quindi pensiamo che quella suggestione che poi nasce in un contesto fumettistico perché inventarselo fu una fumettista non sia comunque sversante ma sia appunto di test letterale e quindi non ci permette se alcune volte c'è azzecca altre ci permetterebbe di cioè farebbe sì che ci perdiamo di vista l'importanza di alcuni contesti e questo è uno di quelli sicuramente benissimo Killers of the Flower Moon andato siamo a 1 ora e 40 di video ti avverto e allora Killers of the Flower Moon seguiamo con quello che forse per me è il più debole tra i candidati che è Maestro Maestro secondo film se non sbaglio di Bradley Cooper alla regia Bradley Cooper anche davanti alla telecamera riporta è un biopic particolare perché effettivamente la cosa che mi ha interessato di più è è proprio questa sua componente di essere un biopic che parla della vita di Bernstein che randioso mitologico direttore d'orchestra ma che in realtà per raccontare quell'uomo veicola tutto e tutta la narrazione attraverso la storia il rapporto tra Bernstein e la moglie e lo fa in maniera scientifica nel senso che tutti i grandi successi di Bernstein vengono visti fuori campo mentre invece la narrazione prosegue semplicemente attraverso una e l'altra crisi del rapporto di coppia tra l'altro fa secondo me una scelta stilistica molto azzeccata perché visto che appunto non ci parla di una grande storia di un biopic che magnifichi che renda gigante il protagonista della storia decide di girare in quattro terzi praticamente quindi non nel nel formato orizzontale del cinema ma di avvicinarsi a una realtà appunto molto più intima perché è attraverso questa realtà intima che racconta la storia di quello che viene considerato appunto uno dei più grandi direttori d'orchestra di sempre compositore sì perché poi c'è anche questo da dire di Bernstein che non è solo un direttore d'orchestra ma è anche un grande compositore tra l'altro racconta una storia di una relazione d'amore con un amore che è diverso da quello dell'attrazione sessuale considerando che Bernstein in anni in cui era impossibile essere omosessuale ha stretto questo rapporto profondissimo fortissimo con la moglie pur continuando ad avere stuoli di giovanissimi amanti e quindi anche la relazione la reazione della moglie a questi continui tradimenti e forse alla fine anche l'impossibilità nell'accettare una relazione che non comprenda tutto non comprenda anche appunto questa componente più passionale che non gli poteva essere dato da Bernstein che appunto semplicemente amava altro amava altro ma continuava ad amare l'amore la moglie di un amore che appunto per lei non era completo ma per lui era grandissimo tant'è che è rimasto a fianco alla moglie praticamente sempre costantemente quindi ripeto molto molto interessanti alcune scelte nel complesso il film per me forse è il più debole della della decina sinceramente non ti sapere neanche andare a mettere il dito sul come si dice su questa presunta debolezza del film che ho sentito perché ripeto tutte le cose che ho detto sono positive nel film bravo lui bravissima lei guarda io pure credo che sia per me il film cioè dovrei rivederlo perché l'ho visto ammetto di averlo visto soltanto a Venezia al concorso dove il film mi lasciò un po' freddo e avrei bisogno sicuramente di tornarci ma non per un discorso di lontananza memoriale ma più perché per un discorso di aspettative nel senso che io amo moltissimo Star is Born e amo molto alcune scelte che lui ha fatto lì un modo che ha avuto di mettersi in gioco l'uso sfacciato del melò cioè se a me mi fa piangere al cinema sono contento e a Star is Born ero proprio una fontanella rotta quindi ero felice e mi aspettavo lavorando su Bernstein comunque che è una materia potenzialmente incandescente un altro film possiamo dire proprio effettivamente così un altro film e quindi quando questa cosa succede la tua relazione poi col film può essere un pochino compromessa e quindi il che non è poi appunto devi cascare nel tranello per pensare che sia colpa del film però ecco comunque metabolizzandolo avendo una serie di conversazioni riguardo un po' di cose comunque un'opinione ce l'ho e condivido con te un po' i dubbi nel senso che non sono sicuro che il film sia pienamente centrato anzitutto un problema di posizionamento di Cooper nel senso che questo è il film in cui Bradley Cooper vuole affermarsi come un grande regista della tradizione del cinema americano quindi la scelta del quattro terzi quindi la scelta di una distanza forte rispetto ai nuclei emotivi spesso è lontano la macchina è una presa e nei momenti nei momenti in cui racconta soprattutto i quadri in cui racconta il peggiorare della malattia della moglie prende e sono momenti che funzionano non funzionano funzionano molto bene e però decide per un certo tipo di distanza c'è un uso della pellicola che è molto ingessato è proprio autore preciso questa cosa per chi magari non avesse visto il film parliamo proprio di una distanza fisica cioè nel senso che si va su campi lunghi lunghissimi durante intere conversazioni appunto sul precipitare della salute della moglie niente ripeto semplicemente una cosa appunto per chi non l'avessi visto o magari per chi non l'avessi notato infatti mi sembra che quindi lui abbia cioè sia un film in cui non vorrei che interferisce però comunque molto presente un suo bisogno di entrare dentro un circolo di sentirsi accettato dentro un circolo di ok sì uno ti è riuscito adesso ti accettiamo come regista con la R maiuscola autore con la maiuscola io penso che sia molto molto difficile una cosa del genere è che ci sia comunque questo quest'ansia considera ce l'ho avuta io quando sono passato da fare fumetti a libri e decisamente su una scala diversa da quella di Bradley Cooper posso immaginare la pressione che deve esercitare l'aspettativa su un secondo film dopo Star is Born che insomma ci aveva detto oh è possibile non è un attore che ha fatto un film sembra un regista che fa anche l'attore esatto secondo me lui comunque si porta dietro i fantasmi di una notte da leoni senza dover rinnegare quel tipo di roba ma ha quel bisogno di dimostrare di essere qualcos'altro qualcosa comunque di più impegnativo di più di più proprio anche vicino alla componente storica del cinema è proprio questo un film veramente tradizionale da un certo punto di vista c'è quasi europeo in alcune scelte si sente molto a produzione di Scorsese e poi questa cosa ritorna anche in una forte presenza dall'altra parte della macchina la presa nel senso che lui comunque interpreta Bernstein in maniera anche invadente un po' sopra le righe è molto molto presente insomma nel film tra l'altro con una mimica estremamente ricercata ma poi in realtà io ho avuto un po' di scambi con una direttrice d'orchestra e altri tecnici che è falsata che non funziona perché poi sono sempre da prendere con le molle queste cose nel senso che l'esperto di strategia bellica che ti smonta la zona degli anelli non ha senso però perché è cinema però quando tu costruisci il tuo biopic come operazione di mimetica ti metti in scena con quell'attenzione così estrema al dato fisico le protesi tutta quella polemica sulle protesi e vuoi essere così il centro scopico del film prendi lezioni capito sono costruite tutte le momenti di performance sono costruiti sulle tracce visive i documenti visivi di Bernstein e questa cosa secondo me alla fine il film un po' lo appesantisce troppo ma persino quando dovrebbe essere un po' più libero se presente la lezione sul finale prima di arrivare a quella brutta obiettivamente in quadratura finale di lui che si riabbraccia allo studente in discoteca ma la scena della lezione come lui interpreta la lezione anche quella era filmata quello è un documento anche lì e quindi un po' too much cioè hai proprio questo senso questo peso di dover restare lì sopra al dato storico e dimostrare che da quel dato storico tu puoi fare grande cinema e credo che il risultato sia un film più ingessato la prima parte ad esempio è molto libera molto abbraccia il musical abbraccia tutte le possibilità plastiche del musical è più sfrenata più vitale poi ci sta che diventa un film eh sì poi capisco che insomma quando affronti il tema della morte è normale la malattia però ecco non lo so mi resta comunque l'impressione di un film non decentrato sono un po' sopra 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 ecco bene bene diciamo che quindi anche su questo siamo abbastanza pienamente d'accordo direi su questo direi di andare avanti perché vai lanciamo c'è un peso da 90 ma qui facciamo il video spin off no? sì esatto allora Oppenheimer siamo arrivati al al favoritissimo di quest'anno e siamo arrivati a quello forse più divisivo tra noi due cioè nel senso a Matteo è piaciuto moltissimo a me è piaciuto moltissimo però sempre per quella strana dicotomia di internet per cui se hai dei dubbi allora lo odi io lo odio perché ho dei dubbi su su Oppenheimer anche qua come con Barbie non so quanto sia necessaria un'introduzione comunque la storia di Oppenheimer è fisico che è dietro al progetto Manhattan progetto Manhattan progetto dietro alla all'utilizzo della potenza nucleare per creare una bomba tra l'altro la bomba appunto che ha raso al suolo due isolotti nel pacifico alla fine della seconda guerra mondiale insomma sono tutti eventi dovremmo avere abbastanza dovremmo dare abbastanza per scontati Nolan Nolan con cui io personalmente ho un rapporto di amore e disinteresse non amore e odio perché ci sono due film sostanzialmente tre film sostanzialmente di Nolan che che mi piacciono molto ma che non amo e tutto il resto a cui sono assolutamente indifferente perché il mio problema con Nolan è che non riesco ad amare i suoi film trovo sempre questo terribile distacco che è esattamente l'opposto di di Pain mentre voglio bene a tutti i personaggi di Pain non riesco mai a volere bene a niente che fa Nolan tutto questo considerando che lo trovo un regista straordinario proprio straordinario Dunkirk penso che sia uno dei migliori film di guerra di sempre insomma in un in un catalogo di film in cui ce ne stanno almeno un paio di Kubrick insomma parliamo comunque di un cioè di un grande grande autore comunque per chi volesse saperlo i film che mi piacciono tanto di Nolan sono Dunkirk The Prestige e Inception e altri un po' meno neanche Interstellar no neanche Interstellar anzi Interstellar vabbè però Interstellar c'è una storia abbastanza travagliata perché Fiore che ha scoperto di essere autistica negli ultimi anni ha anche validato questa scoperta psichiatrica con la visione non stop tre milioni di volte di di Interstellar quindi forse anche quello che me l'ha un po' fatto odiare una pura ludo dito al contrario esatto e per chi non lo sapesse semplicemente ci sono quelli che vengono detti interessi assorbenti per i soggetti autistici che sono delle quelle che banalmente chiamiamo fissazioni e uno degli interessi assorbenti di Fiore è decisamente Interstellar di cui sa qualunque cosa e sa recitare prende a memoria comunque a parte questo spaccato proprio personalissimo su Oppenheimer mi è piaciuto tutto quindi non è che ti dico sai c'è questa cosa che è tutto bello come al solito come in tutti i film di Nolan non 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 ti so dire esattamente la cosa che che non mi è piaciuta la cosa che posso dire è che l'ho trovato incredibilmente un passo indietro rispetto a tutto quello che aveva fatto in precedenza semplicemente perché a me di Nolan piace tutto quell'aspetto molto legato al film di genere mentre invece questo è un biopic un biopic fatto in maniera ancora più fredda di quanto mi sarei aspettato e anche con quel colpo di coda finale quella specie di colpo di scena orchestrato alla fine che ci fa comprendere anche il vero significato di quelle scene in bianco e nero e quelle a colori perché è chiaramente un film sulla verità e sul e sul racconto sul come posso dire su una parte più onesta intellettualmente e invece una menzogna più politica vabbè comunque sia chiunque abbia visto il film sa che è proprio diviso in due parti c'è una parte in bianco e nero e una parte a colori che corrispondono effettivamente a due momenti del della vita del fisico ripeto è davvero difficile per me parlarne perché semplicemente mi sono un po' annoiato e l'ho subito e non vissuto il film magari lo rivedrò e cambierò completamente idea però decisamente non è il mio favorito anche se l'ho trovato un film magnifico quando poi farò la classifica dei film vi accorgerete che comunque è altissimo perché ho gli occhi per vedere quindi riconosco la grandezza dell'immagine la grandezza della messa in scena la grandezza del genio registico che va a realizzare in maniera quasi artigianale un film che in un mondo come il cinema hollywoodiano sarebbe totalmente realizzato attraverso la computer grafica invece appunto fa tutto pezzo per pezzo perché è chiaramente un amante di quel cinema di quello di quello che si fa sul set e non in post produzione Nolan e niente tutto qua ripeto non ho molte frecce al mio arco perché è un film che molto probabilmente devo rivedere Fiere l'ha già visto quattro volte guarda io allora inizio con la 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 chiave di lettura quella proprio da critico noioso che è il motivo per cui più amo il film cioè che lui comunque affronta un tema enorme declinandolo in termini di ossessione scopica cioè è tutto un film sul bisogno di guardare sul bisogno di scavare dentro la materia per arrivare a osservare qualcosa e quindi declina il mito di Prometeo però come fosse appunto questa fame di sguardo l'inquadratura fondamentale in questo è quando c'è lui che osserva l'esplosione attraverso quella che è palesemente una macchina da presa come idealmente ma poi tutta la prima parte del film sono frammenti di un'immagine cioè arrivare alla bomba vuol dire costruire l'immagine della bomba capito poter mettere in scena un'immagine impossibile l'immagine limite e tutti i frammenti che lui ha ossessivi nella propria testa nella prima parte del film con le schegge di elettricità con le orbitali in movimento quelle particelle sono tutti avvicinamenti tutti i piccoli frammenti scopici tutti i piccoli indizi che lui deve costruire mettere assieme per arrivare ad assemblare non la bomba intesa come meccanismo fisico anche se c'è chiaramente molta attenzione a quell'aspetto una ricostruzione perfetta perfetta non in questo già da Inception c'è una attenzione scientifica l'uso che mi viene in mente quanto fu criticata l'uso della gravità di Interstellar senza sapere che è proprio è così è proprio un discorso di fisica che la gravità è considerata la forza in grado di parlare attraverso le varie dimensioni ma a parte ciò quindi c'è sempre questa tensione di hard sci-fi in qualche modo questo dentro questo Clark Arthur C. Clark dentro Nolan è anche un po' cubrichiana come cosa ma al netto di ciò c'è anche questo bisogno del film di arrivare è proprio una una sorta di meccanismo vettoriale verso l'esplosione della bomba non solo come meccanismo narrativo ma come bisogno di costruire l'immagine della bomba e quindi poter guardare dove l'uomo non ha diritto di guardare perché una volta che lì vai a osservare fino lì hai scoperto il palco hai tolto il sipario fino a quel punto lì gli occhi non li puoi più chiudere cioè una volta che tu hai aperto quella porta quella porta non la chiudi più infatti scrivendo ne ho occupato quel proverbio insomma quel modo di dire l'inglese che quello che hai visto non puoi non vedere what you see you can't and see quindi quello che l'occhio vede l'occhio conserva e quindi nella memoria dell'uomo nella conoscenza dell'uomo quella roba all'anno non la porti più indietro cioè la scuerta del fuoco non la rimangi più non la rimangi più e in questo senso il film è perfettamente coerente nel lavorare sempre i primi primissimi piani sullo sguardo di lui che è proprio un personaggio che anzitutto guarda ha proprio questo bisogno di guardare non batte mai le palpebre osserva costantemente e il problema è proprio che nel finale lui non può più chiudere gli occhi cioè quando torna al dialogo con Einstein nel finale del film è proprio lui che chiude questi occhi per la prima volta forse in un tentativo sa inutile di rimettere il coniglio nel cilindro e non si può più fare tu ormai l'immagine l'hai creata e una volta che hai creato quelle immagini che l'hai guardata ormai ce l'hai stampata nelle pupille te e di tutti gli altri non si può più tornare indietro in questo senso dare questa interpretazione cinematografica questa forma cinematografica in termini di ossessione scopica alla scoperta della bomba è il motivo forse principale per cui amo il film di Nolan per cui amo Oppenheimer ecco io non sono assolutamente nella parte di detrattori di Nolan che dice che il film è un ode al potere della bomba dimenticandosi le vittime perché non le hai mostrate allora tu stai dicendo è una stronzata clamorosa nel senso che il film è tutto incentrato invece su un'ossessione terrificante che porta a conseguenze terrificanti e come dicevi giustamente tu all'impossibilità di tornare indietro quando hai varcato quella soglia e tra le altre cose vorrei anche che tornasse un po' invece nel cilindro il coniglio che abbiamo tirato fuori un po' di tempo fa che accolla al cinema che demanda al cinema la come posso dire l'investigazione sociale storica non è il cinema non non deve fare questo non non deve esserci il contraddittorio nel cinema non devono esserci tutte le parti non è un un dibattito politico al alla vigilia delle elezioni in cui devono esserci tutti perché sennò il Codacons li multa cioè quella è la visione di Nolan che tra l'altro ripeto è stata anche travisata largamente ma non è possibile proprio nella nella critica imporre una molteplicità di visione di intenti di posizioni politiche a un'opera artistica che è l'emanazione del pensiero dell'autore se no allora a sto punto ve meritate tutti i film de merda fatti con il l'ufficio marketing in in sala di montaggio e è bella per voi perché ripeto non esiste cioè non possiamo pretendere questo dal cinema no infatti una piccola invettiva all'interno di un discorso in cui sto dicendo manco so se mi è piaciuto il film però mi state sul cazzo voi che che vi raccontate sta storia che appunto è un film sulla potenza della bomba atomica quanto è bravo Penheimer che poi in realtà la sequenza la sequenza onirica in cui lui prova a presentare la bomba di fronte al palco di fronte al pubblico diciamo del del di tutto il suo team di collaborazione che tra l'altro il momento in cui noi scopriamo che quei suoni che fino ad ora abbiamo sentito che credevamo essere una di tutt'altra origine forse tecnologica quella sorta di countdown quello quel che poi il motivo più potente del film in realtà era un'elaborazione una rilaborazione dei piedi battuti per terra e quindi anche lì cioè proprio con gli strumenti del cinema in questo caso con l'elaborazione del sonoro io ti trasformo il senso di lavoro e ti faccio arrivare il senso di ossessione il senso di incombenza della colpa e poi lì lui ha i flash che deve avere ed è tutto lì il fatto è che non ci stanno Hiroshima e Nagasaki doveva fare una panoramica dall'alto sull'aereo che si avvicina e sgancia la bomba perché se no no non va bene poi per il più la storia è su un film che praticamente non è in grado non vuole ovviamente stare più di dieci metri lontano dal proprio protagonista cioè è costantemente su di lui è un film di pura soggettività e non a caso c'è il discorso poi dell'alternanza dei colori quindi non avrei non puoi perché ci stanno i morti e quindi devi parlare anche di quelli perché non puoi fare una storia solo su Oppenheimer che ripeto è una roba senza senso è la critica più stupida che abbia mai ascoltato e purtroppo l'ho dovuta sentire in un milione di salse anche da voci abbastanza autorevoli ma che cacchio di pensiero è come è possibile decidere per l'autore dove deve mettere lo sguardo cioè per me è la follia ma poi è un tema così ovviamente cioè addirittura non mostrare potrebbe avere qui lancio un sassolino verso Glazer è una zona di interesse non mostrare certe immagini che sono in realtà ovunque che abbiamo visto e stravisto e stravisto può avere assolutamente senso perché ha a che fare con il potere narcotico dell'immagine nel caso di Glazer te le fa cioè le sottrae tra l'altro appunto non in una narrativa è chiaro che se Scorsese raccontando la storia misconosciuta di una tribu indiana distrutta dai bianchi in un periodo di cui c'è poca narrazione me leva le morti dei dei nativi americani me leva i funerali che chiaramente sta facendo un'opera di censura ma la bomba atomica ragazzi cioè se non sapete cosa è successo a Hiroshima e Nagasaki sono cazzi vostri non di Nolan non è la vostra maestra all'elementari cioè vabbè ripeto proprio così proprio così mi infastidisce proprio sta cosa lo sentire da persone a cui voglio bene che mi sembrano persone intelligenti quindi non riesco contro il senso del film nel momento in cui tu costruisci tutto sul tema dello sguardo e infatti cosa succede quando gli tolgono dopo che lui ha consegnato diciamo è partito il marchigegno qual è la caratteristica e lì Nolan invece è bravissimo come gestisce il momento dell'esplosione quando a lui gli arriva notizia tramite radio cioè è un personaggio che subisce gli effetti della propria ingordiggia scopica in qualche modo negandogli lo sguardo cioè lui non ha accesso allo sguardo non riesce a vedere infatti le informazioni gli arrivano tramite radio è proprio il senso del film cioè la frustrazione la punizione che lui subisce in quel momento è essere messo ai margini perché non può più vedere dopo che ha aperto la finestra lo tolgono là dico ok basta adesso tu da qui non ci guardi neanche più quindi avrebbe proprio ma perché anche il momento in cui ti dice lui una volta che l'ha fatto non è più suo non ha più nessun controllo su quella cosa e poi ripeto non mi pare che continuando con la narrazione che poi in realtà è alternata però tutta la seconda parte della narrazione ci racconta la vita di un uomo riuscito e eccezionale e vincitore cioè la sua ultima vittoria è evitare la sconfitta finale non mi pare appunto che ci siano le parate in strada di certo non è tutto altro che eroico e qui infatti l'altro motivo per me di fascino nel film che vedevo proprio adesso in diretta stavo ricontrollando box office mojo il sito che raccoglie i dati dei box office dei film a livelli internazionali internazionali e vedevo che il film al momento in diretta sta a 957 milioni di dollari di budget di box office di incassi questo significa che dopo gli oscar sporerà il miliardo perché sicuramente tornerà in sale e sicuramente verrà visto quindi stiamo parlando cioè di un film sui fisici fatto tutto di primi e primissimi piani parlatissimo con una sceneggiatura fittissima che dura tre ore con un impianto narrativo anche parecchio complesso in termini di dinamica temporale di montaggio che sta un cazzo di miliardo di dollari di budget è qualcosa straordinario nel senso che anche fosse dato come fenomeno culturale come dinamica è estremamente affascinante una cosa del genere c'è anche il potere dell'autorismo dell'autorità dell'autorialità che diventa autorità di Nolan è veramente affascinante questa cosa è un film quasi impensabile c'è nessuno ovviamente non c'è nessun altro essere umano vivente avrebbe potuto raggiungere risultato del genere come costruzione poi chiaramente di una carriera di un percorso che in questo è proprio veramente il pubblico dei nostri anni non e qui poi potrei scatenare chiaramente i falò eccetera ma non in termini di stile non in termini di graduatoria ma in termini di posizionamento e di status all'interno dell'industria un autore che però sfonda i botteghini con un blockbuster perché comunque come la metti la metti openheimer è un blockbuster perché è l'avengers dei fisici come ricordiamoci tutti i film di kubrick perché poi c'è anche sta cosa che li metti nelle teche e ti dimentichi esattamente cosa facevano però faceva dei blockbuster ha fatto un horror ha fatto film di guerra film storici in costume cinema di genere capito sembra la grande eresia del mondo qui sembra stanisson diceva kubrick faceva un film dopo l'altro e poi dieci anni di profonda vergogna e mezzo ma è questo cioè noi abbiamo come se questo il genere oh mio dio ma ti pare che uno come kubrick faceva eh ragazzi faceva film di genere uno dopo l'altro capito e Nolan in questo senso è questo cioè come dicevamo lo mettevamo in coda con Villeneuve cioè l'autore in grado di manipolare di vivere dentro le formule blockbuster a più alti livelli industriali e comunque raggiungere degli esiti commerciali e contemporaneamente artistici perché non stiamo a parlare del miliardo di dollari guadagnato da Avengers Infinity War che per quanto sia un film che io stimo quello Endgame è meno ma parliamo comunque cioè di un film sulla valore autoriale cinematografico decisamente diverso è un fenomeno culturale io so che saremo sobbarcati di tesi su Oppenheimer le sento arrivare come proprio di tesi universitarie intendo cioè di studenti di trennale li sento già caricarsi arrivare proprio che incombono però lo capisco è veramente un fenomeno culturale è effettivamente affascinante che lui sia riuscito ad un'operazione del genere ma chi l'avrebbe detto sulla carta dai oh guarda c'ho questa idea sono sette dodici fisici diversi in giro per il mondo che parlano e basta e poi facciamo una bomba tre ore così però però te lo dico la bomba arriva proprio alla fine fine manco i test se vedono capito no è incredibile per me è straordinaria sta cosa lui riesce a tenere in piedi un'operazione così è incredibile no no ma ripeto è il motivo per cui dico il film personalmente non mi è piaciuto ma poi ne riconosco tutti i meriti soggettivi scusa oggettivi basta perché se no parliamo altre sei ore di Oppenheimer passiamo a uno dei film che più abbiamo amato ne sono sicuro entrambi sì no non ci credo non ti è piaciuto mi è piaciuto tantissimo forse è il mio film preferito degli oscar mi sa infatti bene allora past lives è uscito a San Valentino infatti è una fantastica storia d'amore questo lo dici se non hai capito un cazzo del film perché io ti giuro c'ho avuto questo corto circuito su past lives perché io l'ho visto detto ammazzo il film doloroso che film un film è chiaramente sulla perdita delle origini su sull'essere strappati via da un posto per per essere catapultati in un'altra realtà doversi ricostruire perdere se stessi per me chiaramente è un film su questo per tutti i pubblicitari italiani è un film su una storia d'amore tra l'altro se fosse così sarebbe il film sulla stronza più grande della storia perché fa tutto davanti al marito addirittura lo coinvolge è la storia di dell'autrice direi anche visto che è un'altra opera prima scusa non ricordo anche in questo caso il nome della sceneggiatrice e regista selene song selene song selene song ok facile molto più facile quanto ricordassi selene song opera prima tra l'altro scusate me levo il cappello me in chino me in ginocchio perché insomma un'opera prima di questo livello non me la ricordo opera prima racconta una storia che gli è molto vicina perché selene song ha origini coreane si è trasferita in canada e poi negli stati uniti dove ha realizzato anche se non sbaglio il il film è una produzione statunitense giusto è la storia di questa di questa donna che appunto somiglia molto alla storia della regista che si trasferisce anche lei dalla corea molto giovane in corea da bambina cioè quindi proprio stiamo parlando se non sbaglio delle medie a questa questa storia d'amore sembra eccessivo questa amicizia particolare questa il primo fidanzatino e quando si trasferisce si lascia dietro questo questo bambino che poi cresce si rincontrano di nuovo solamente però attraverso il filtro delle videochiamate quando sono sono dei giovani uomo e donna hanno questa relazione a distanza si potrebbe dire in cui non si incontrano mai questo amore non si concretizza mai tant'è che poi tutte e due prendono strade molto diverse lei si sposa e hanno un'ultima occasione di riallacciare questo rapporto durante un viaggio di lavoro che però è più una scusa per lui di rincontrare quell'amore che non è mai stato un amore e il il rapporto che che si crea tra di loro la nostalgia che prova lei verso di lui personalmente per la mia visione ma che poi ho sentito nelle interviste di Selin Song è la visione della regista in realtà è un un momento molto difficile per la protagonista in cui la figura di questo amore mai consumato di quest'uomo diventa in realtà una parte di lei che deve essere abbandonata perché si è allontanata così tanto dal suo paese d'origine sono ormai così tanti anni che vive un'altra realtà che quella piccola ragazzina che lui si ricorda che lui si ricorda meglio di lei che che è una persona che è cambiata deve essere appunto rimessa in prospettiva e rimettere in prospettiva le proprie origini è un processo dolorosissimo terribile perché sta fisicamente in quel momento abbandonando una parte di sé e tutto questo naturalmente viene veicolato attraverso la narrazione di questa storia d'amore mai nata ho trovato un film magnifico naturalmente data la mia come posso dire deformazione professionale il mio amore totale è stato per una scrittura perfetta perfetta perché racconta una storia complicatissima utilizzando il mezzo con cui la stai raccontando nel senso che è una storia vissuta attraverso le immagini in tutte le sue parti è una storia che paradossalmente inizia proprio dal punto di vista di uno spettatore che vede la coppia di ragazzi coreani e accanto il marito e in una voce fuori campo che potrebbe essere la nostra si interroga su quali sono le relazioni tra queste tre persone perché sembra che la coppia di coreani debba essere la coppia effettiva quella di diamanti mentre invece questa terza persona non viene riconosciuta e anche in questo idea geniale perché agli occhi di tutti lei è coreana perché la vedono come una donna coreana però lei non ci si sente più quindi lo spettatore la vede e la giudica immediatamente per il suo aspetto fisico e lei però quell'identità la sta perdendo perché l'identità culturale poi è fatta delle esperienze della vita se vivi tutta la tua vita in in un paese diverso quell'identità va svanendo ripeto storia meravigliosa forse il mio film preferito degli oscar sono d'accordo non so se il però è sicuramente un film magnifico uno dei uno dei miei film sicuramente dell'anno è uno dei migliori esordi degli ultimi anni che abbia memoria veramente 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 sorprendente perché sono sono d'accordo che la linea diciamo di interpretazione sia quella perché mi veniva a sorridere immaginare le coppie eventuali che vanno a vedere un film del genere a ritrovarsi magari cioè non so quante ne avranno ristrutte in realtà di coppie esatto in una posizione dell'altra in cui uno dice ah ma quindi tu l'avresti visto il tuo ex ah no ma ti invece pensi che sarebbe sbagliato vedere il mio ex tu mi opprimi tu sei uno stronzo sarebbe stato veramente un ecc ah sì perché scusate ho dato per scontato ma i due si rivedono e lei e il marito di lei lo sa che si stanno rivedendo lo sa non solo partecipa all'ultima notte che che passano insieme e tra l'altro il marito dopo un brevissimo momento di di gelosia in realtà sembra proprio comprendere la vera natura di quel rapporto comunque scusa perché farriderissimo tu non lo puoi vedere ma nella grafica io sono esattamente nel corpo di lui e tu sei perfettamente nel corpo di lei tra l'altro lei è tutti e due bravi ma lei chiaramente porta un po' più il peso del film lei è magnifica lei è davvero davvero stupenda Greta Lee e no sono d'accordo che il film chiaramente si veste da un certo tipo di cosa per parlare di altro ma anche contemporaneamente di altro cioè comunque è anche tanto un film sugli occasioni però non sugli occasioni perdute non è tanto quello perché che che occasione era in fondo quella di due bambini è più un discorso sulle ramificazioni possibili della vita ma come noi abbiamo facciamo ricorso a quel tipo di malinconia in alcuni momenti di passaggio per descriverceli questi momenti per viverli cioè è come se fosse la lente attraverso la quale noi viviamo certi momenti di rottura diventa quel tipo di malinconia lì ed è appunto questo il motivo per cui il marito per esempio capisce che non ha a che fare con un rivale ma con un fantasma di un'altra intera vita che poteva essere e non è stata e quindi l'ha anche la in fondo e questo è il talento di lei di di Celine Song è anche quello di con mantenerci come spettatori di fronte quasi due sconosciuti soprattutto lui cioè nel senso che comunque come possono conoscersi in fondo due persone con questo tipo di trascorso è vero sì quando incominciano a vedersi online hanno sviluppano una maggiore intimità tra virgolette però resta il fatto che c'è un intero universo che ognuno di noi porta con sé e che quei loro due non hanno una minima idea in realtà di chi sia l'altro cioè sono fantasmi sono proiezioni tant'è che quando il marito gli chiede se lui gli piace lei dice una cosa che che secondo me è proprio anche una dei modi proprio per arrivare alla chiave di lettura di cui parlavamo cioè lei gli dice che no non gli piace perché è troppo coreano è il coreano tipo e lei non può più entrare in risonanza con quello infatti infatti no è proprio lì il discorso e la potenza del film e mi viene ad aggiungere la veramente veramente sorprendente la maturità stilistica registica di questa di questa trentenne poi cioè veramente l'odio di più anche per quello esatto assolutamente cioè hai una capacità cioè costruire quel finale lì con quella soluzione stilistica che dico soltanto che è un carrello laterale che si muove e crea quella situazione quella sequenza e beh sei brava cioè sei dannatamente brava cioè c'hai proprio già una consapevolezza del mezzo cosa funziona e come funziona su schermo e che effetto vuoi raggiungere anche poi il lavoro sulle luci cioè ad esempio è un film in cui c'è un nero e la tempo che sono rari i film che offrono un'oscurità no? un nero così nero è vero la pellicola però c'è un nero pieno magnifico quando il futuro di marito e moglie si conoscono per esempio come stagliano le silhouette con l'oscurità dietro è veramente veramente bellissimo e devo dire è un film che ha molti di Echie di Yvonne Carvaj e mi sembra il tipo di cinema che un pochino accarezza a volte come esito stilistico ora un po' meno però c'è stato un periodo in cui Sofia Coppola quel tipo di direzione erano tutti comunque innamorati ovviamente del cinema estremamente stilizzato e meraviglioso di Yvonne Carvaj e di Ani Quanta e qui però lei raggiunge una certa delicatezza ma comunque anche un'eleganza formale un modo in cui riesce a bilanciare le due cose che è veramente magnifico e mi ricorda tra l'altro risuona è un film profondamente millennial obiettivamente cioè proprio profondamente millennial nella sensibilità e in questo senso fa il paio con l'altro grande film sulla condizione millennial che è Ritorno a Seul che è un altro film che lavora sulla relazione fra l'identità il sangue la crescita e la condizione apolide come poi scissione schizofranica dell'identità come perdita dell'identità questioni su chi sono dove sono Ritorno a Seul un film che consiglio moltissimo magari è meno bruciante meno magnifico di Past Lives però è comunque un film molto bello perché racconta di questo personaggio di questa donna che a vent'anni torna è cresciuta adottata in Francia torna in Corea per altri motivi ma poi comunque c'è una forza che la sta conducendo a provare a rincontrare i genitori biologici che vuol dire anche rilacciarsi con l'identità e tutto si fa molto più complesso e più suddiviso negli anni e anche lì è proprio un grande ritratto delle condizioni millennial sullo spaisamento sulla perdita dei punti di riferimento che sono poi anche economici insomma tutta una serie di livelli che poi hanno a che fare con l'identità grandissimo film insomma e lei sono sicuro che avrà un futuro importante Past Lives passiamo oltre e arriviamo a Poor Things allora Poor Things è storia tratta da un romanzo racconto di una oddio una sorta una specie una strana mostro di Frankenstein che però incarna il lo sguardo maschile sulla femminilità quello che l'uomo pensa dovrebbe essere la femminilità quel è una sorta di gioco al al bambino dei lupi non so se avete presente il principio per cui se un ragazzino viene allevato in mezzo alla foresta non diventa un uomo sociale ma diventa un lupo e il principio è che c'è questa donna messa insieme da un da uno scienziato pazzo che ha il corpo di una donna adulta ma la mente di una bambina è una storia con fortissime eco visive dell'espressionismo tedesco questo strano nel senso anzi no più che strano inaspettato ritorno a una a una visione quasi steampunk perché si muove in un mondo sospeso con questa stranissima estetica ripeto pienamente in realtà steampunk la protagonista fa proprio tutto un lungo viaggio alla scoperta del suo ruolo come donna un viaggio che immaginate è un viaggio in cui lei è una donna nel senso che fisicamente visivamente è una donna ma ha ancora appunto le esperienze di una bambina e quindi non ha nessuna difesa nessun nessun filtro in grado di di difenderla dal mondo circostante e c'è una bravissima Emma Stone che però paradossalmente ho preferito nel nell'unica cosa che non ha visto nessuno di Emma Stone che è la la serie The Course uscita l'anno scorso proprio pazzesca straordinaria in cui Emma Stone davvero dà prova di essere un'attrice strabiliante qua è quasi troppo facile il suo ruolo poi non è vero però è quasi troppo facile nel senso che aveva più modo di mostrare quanto era brava il ruolo glielo permetteva di più mentre invece in The Course è semplicemente che a un certo punto ti dimentichi che è Emma Stone e la detesti insomma detestare Emma Stone è una roba che solo Emma Stone può riuscire a realizzare nota del tutto personale io detesto Latimos e ah beh vedi siamo in due detesto Latimos vorrei spaccargli tutti grand'angolo perché trovo che il Fish Eye non sia impossibile da utilizzare ma dopo un po' mi viene il volta stomaco e e poi tra l'altro qua sul canale lo sanno tutti io detesto l'estetica steampunk quindi ci sono due cose che odio in questo film tra le altre cose che non mi sono piaciute del film è una certa un certo autocompiacimento nel mostrare quest'estetica estrema che però diventa un po' fine a se stessa è un po' ridondante e appunto ho fatto l'esempio del Fish Eye perché è praticamente su qualunque cosa in qualunque modo anche in caso in cui dici ma perché sto a scena in Fish Eye nel senso che me stai a dire è una visione così particolare così precisa che deve avere un significato se no sei solo uno che ha scoperto un filtro sul telefono e lo appiccica su qualunque cosa paradossalmente ho detto solo cose negative il film non mi è dispiaciuto cioè sono uscito abbastanza in pace con me stesso però mi sono un pochino annoiato la maggior parte della colpa non sia della storia che invece so perché l'ha letta fiore che nel romanzo va anche in una direzione molto molto diversa e c'è stato un grosso cambio nel finale che cambia un po' la sostanza anche della storia ma piuttosto appunto perché non mi ha convinto tutta la parte visiva dell'opera anche se è molto interessante cioè soprattutto i tagli tra una scena e l'altra sono delle immagini davvero belle guarda no io sì sono d'accordo su molte cose cioè anzitutto per l'odio per l'antimos proprio regista che mi sta qua ma che ha poi aperto quel momento di cosiddetta new wave greca che in realtà si è sgonfiata su se stessa come un souffle proprio perché oltre che dirci che il mondo è una merda non aveva nient'altro da dire e il modo in cui lo diceva era anche estremamente programmatico e quindi non si è proprio sgonfiato totalmente tutti i vari i tre quattro epigoni insomma sorti attorno a lui nessuno di questi poi dopo insomma è andato a un certo punto da nessuna parte ma in generale sì io ho proprio problemi con il suo cinema con quel tipo di di cinismo in generale non sono a mio agio col cinema ma quello che è un po' il cinema della crudeltà ma anche con registi che stimo che comunque mi affascinano o mi possono dare forti stimoli intellettuali come possono essere certo Anneke o certo Von Trier ho comunque un po' di difficoltà a volte con un uso così sprezzante del del cinismo ma questa è proprio una dimensione personale nella mia recezione proprio per l'individuale del film con l'antimos non li riconosco spesso neanche la capacità di raggiungere una profondità poi di senso che sia che si equipari quella 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 così sfacciata emanazione quella così sfacciata proprio esibizione di circolarità di potere di assenza di speranza il suo cinema a parte questo fino ad ora è sempre stato un cinema di potere che si reitera che si ripete si rimette in scena non c'è mai via riuscita non c'è mai di speranza tutto è soffocato tutto è un teorema tutto è un teorema che va costantemente a riproporsi e ricordo in questo le origini però di latimos ci spiegano molto di questa sua visione visto che insomma è greco quindi viene da un paese che che ha vissuto il baratro ma non come i nostri come tutti i paesi dell'Europa nella seconda guerra mondiale ma ieri quindi ripeto giustifico questa cosa semplicemente perché appunto è una visione nichilista pessimistica che è comprovata dai fatti nella loro esperienza personale del mondo infatti ti racconto questa aneddoto che ero a Venezia alla conferenza stampa quando hanno presentato Miss Violence che è un film greco di un epigono diciamo di lantimos che ha uno degli inizi più deprecabili della storia del cinema con questa ragazzina che si suicida da un balcone e prima di farlo guarda in macchina e sorride e io lì proprio ti voglio tirare il collo ed è tutto un film centrato sugli abusi domestici in cui apparentemente risolta la situazione in realtà poi tutto si resette e si comincia da capo e mi ricordo la rabbia di due giornalisti greci in conferenza stampa che attaccarono il maleparore del regista che poi in realtà si porta pure a casa un premio perché in realtà il film era tutto arti molto fighetto perché erano i giorni in cui ad Atene in realtà si lanciavano le molotov contro i poliziotti e i militari per le strade c'era un forte clima di protesta quasi la guerra civile c'erano dei movimenti popolari fortissimi perché erano comunque gli anni contro la cosiddetta austerity appena emanata e quindi gli si disse scusa ma secondo te questa reiterazione così insistita questa roba dovrebbe essere una fotografia di come è il nostro paese adesso vattene un po' affanculo quello era un po' il suo discorso questa ossessione del dover raccontare i meccanismi del potere attraverso la metafora degli abusi familiari dei contesti della famiglia negli ambienti domestici senza però mai mai dare possibilità di respiro e il precipitato per quanto riguarda le precabili ma qui apriremo forse un giorno altri video me li aprirò da solo io che parlo male del mondo sarà è per esempio favolacce dell'innocenzo li guardano moltissimo all'antimus e infatti io li odio moltissimo e loro tra l'altro monitorano attivamente tutti i canali in cerca dei loro nomi quindi sono sicuro che riceverò insulti da parte loro per questo ma a netto di ciò dei rosiconi terrificanti no no sì esatto sì sì assolutamente povere creature devo dire il primo film così ci prendiamo come si dice gli smadonnamenti insieme ottimo no povere creature è un film che è il primo film in realtà l'antimo schiapre anche perché se fai un film femminista o comunque sul femminismo sulla figura femminile emancipazione femminile e poi resetti i sistemi di potere da capo ti vengono a cercare con i forconi per davvero giustamente anche adesso se mi stai a dire che non se ne può uscire allora un po' te voglio male però mi sembra anche totalmente il film decaffeinato nel senso che tutto quello che ci vuole essere interessante di cattivo di disturbante nel primo cinema indipendente quel locale nel senso girato proprio in Grecia di Lantimos e qui diventa un film Disney e lo è letteralmente perché comunque un film prodotto cioè per i discorsi di scatole cinesi di oggi la proprietà è Disney di questo film lo vedremo arrivare su Disney Plus la protagonista è una principessa Disney perché comunque questo è e quindi c'è una sorta di disneyficazione di un immaginario di un modo anche abbastanza cattivo prima di interpretare il mondo e quello che resta è soltanto il circo delle mostruosità visive che nei trucchi Bartoniano Bartoniano dell'ultimo Barton poi non del primo c'è molto dell'espressionismo tedesco è un film sicuramente cinefilo va dall'espressionismo tedesco a Fassbinder con tutte le parti quelle della crociera per esempio però ed è sicuramente interessante può stimolare immagino anche che l'elemento steampunk a chi non abbia manchi conoscenza della parola stessa steampunk non per un discorso di stombismo ma perché è una nicchia anicchissima esatto e possa affascinare sembrare qualcosa di nuovo di diverso invece è tipo la roba più ridigerita e rigurgitata di sempre cioè nel senso davvero Barton insomma non è proprio il più fresco degli immaginari no infatti non so è un film in cui io non riesco proprio perché ho appunto problemi con l'antimos i problemi con come gestisce la macchina una presa gli effetti la sua il suo bisogno tracotante di essere sempre in mezzo tra lo sguardo e il film non ti puoi dimenticare che io ci sono che sto qua sono questa presenza incombente non puoi fare a meno di me e un po' meno proglioni con la favorita mi infastidi particolarmente questa cosa cioè del fatto che era proprio insistita la sua visione cioè parlavamo prima del fatto che uno comunque super piacione come Payne però sparisce completamente e lui è il contrario cioè facendo un tentativo di essere cattivo nuovo graffiante in realtà si mette così in in luce da far mettere un po' di sfondo tutto il resto cioè le sue storie si sfilacciano sempre ma addirittura le sue grandi protagoniste perdono si perdono un po' nel nel caos che gli crea attorno perché deve esserci lui sì molto così e chiaramente poi in un film che lavora sul femminismo e la e la via di emancipazione può anche sollevare qualche dubbio io devo dire a quel punto di vista non l'ho avvertito però sono rispetto ad altre situazioni sono risposto non pare brutto detta così sono risposto a un dialogo però nel senso sono dell'idea che ascolterei altre opinioni ho ascoltato altre opinioni di critiche femministe al film li trovo magari più stimolanti rispetto ad altre situazioni ma potevano essere quelle che dicevamo contro Scorsese in questo caso anche l'esibizione del sesso per quanto sia coerente col tema del film mi viene sempre da pensare che comunque non viene meno un certo meccanismo di intrinseco di esibizione o di sessualizzazione che però poi è il tema del film quindi è proprio un circuito che devi che forse non risolvi è difficile da rompere eh sì semplicemente lo metti in scena lo abiti ma se lo fai con consapevolezza funziona magari manca un po' una certa matericità del corpo femminile sempre un corpo femminile che sì ok gli hai fatto le sopracciglia scure apparentemente non la trucchi però parliamo pur sempre di Mastone quindi forse avrebbe avuto più forza un corpo meno conforme c'era Fiore c'era Fiore che notava insieme a un'amica che Mastone ha le ascelle depilate che lo so che sembra una stupidaggine però nel senso lei è sempre vissuta in una casa in cui non c'era qualcuno che gli ha insegnato che appunto il corpo femminile dovrebbe essere così o colà tant'è che ha il pub e non rasato però le ascelle sì probabilmente diceva Fiore Mastone se l'ha levata con laser quindi a meno gli attaccavano un parrucchino sotto al coso non potevano realizzarlo però sai sono quelle piccole cose che magari un occhio appunto femminile coglie di più io non me l'ero minimamente accorto però poi ho fatto sì effettivamente Fiore non ha le ascelle depilate non ci ho mai pensato non so se ad esempio nel libro il tema viene affrontato però penso anche a un film che racconta la scoperta del corpo da parte di una mente che non è in sincrono diciamo con quel corpo quindi è una mente infantile che riparte da zero adesso non vorrei magari correggimi se non sbaglio anche questo non lo rivelo la Venezia però mi sembra che nel film non si affronti mai il tema nel maestro no a lei non è mai sorpresa dal ciclo no se non sbaglio no se non sbaglio no ed è una cosa in realtà che ha un peso cioè eludere una cosa del genere considerato che oddio adesso ho detto un no deciso però sto avendo dei dubbi quindi non non lo darei come come assoluto assoluto però mi sembra che non ci sia se non sbaglio non è un tema che viene affrontato perché in realtà è proprio più quello del del rapporto con la sessualità con l'altro sesso cioè il tema centrale del film è decisamente quello ok passiamo avanti a Purting stiamo entrando nelle tre ore ti avverto quindi andremo quindi chiudiamo in bellezza in piena disperazione con Glazer ok tu non hai visto cosa ho fatto ho fatto un casino va bellissimo comunque che non cancelli queste tre ore va tutto bene la zona di interesse la zona di interesse è un film sulla famiglia S il padre di famiglia è uno dei realizzatori della soluzione finale quindi del della gestione dei campi di concentramento dello sterminio di massa degli ebrei nella seconda guerra mondiale e questa famigliola come ce ne potrebbero essere tante tedesca vive in una casa che ha come che ha come muro di cinta nel proprio giardino il muro del del lager di Auschwitz la narrazione è sulla famiglia quindi non vediamo mai mai quello che c'è dentro al lager ma ne viviamo tutti so che sembrerà strano però poi mi spiego ne viviamo tutti gli incomodi nel senso che in realtà la realtà che stanno vivendo tutte le persone rinchiuse nel lager fuoriesce arriva in questa piccola villetta che è quasi banale nella sua essenza cioè sembra proprio una casetta di campagna sperza nel nulla che però in realtà proprio a vista ha le cimiere da cui esce il fumo dei dei forni crematori di Auschwitz è un film che proprio leva dall'equazione dalla rappresentazione del della Shoah tutta la parte relativa proprio all'ager paradossalmente ma eliminando quella parte cioè mostrandoci solo le vite della famiglia la burocrazia sterile che c'è dietro all'organizzazione programmatica di uno sterminio levando proprio l'elemento più umano più doloroso più visivamente anche teoricamente inquietante crea una visione angosciante e terribilmente inquietante di quella cosa perché tu sai sempre cosa c'è dietro quel muro è stato perfettamente decodificato dalla filmografia da Schindler da tutto quello che abbiamo letto perché spero che tutti voi abbiate letto se questo è un uomo cioè conosciamo perfettamente la materia che c'è dietro quel muro ma il fatto che ce la leva è un po' quello che fa anzi scusate il contrario di quello che fa un artista tipo adesso non riesco a ricordare il nome però che impacchetta i monumenti Cristo Cristo bravo Cristo che impacchetta i monumenti tu dopo averlo visto continuamente impacchettato finalmente lo vedi davvero solamente quando leva la carta da torno ecco qua è il contrario nel senso che ci mette un muro e il muro rimane là perché tanto tu sai perfettamente cosa c'è dietro quel muro non è quindi una riscoperta ma un ricordo di quanto tu sei cosciente di quella cosa tra l'altro a me ha fatto una sorta di cortocircuito con con la mia personale morale nel senso che sono uscito dal film cosciente del fatto che in realtà è un tipo di narrazione che si sposa perfettamente con le nostre vite cioè noi viviamo costantemente in una casa vicino a un lager nel senso che proprio con l'avvicinamento dei confini dato da un sistema di informazione di una realtà che è quella dei social che ci ha avvicinato a qualunque lotta a qualunque ingiustizia pensate alla primavera araba l'abbiamo vista in diretta oppure agli iraniani che protestano e vedi tutto su twitter quindi noi sappiamo che letteralmente viviamo accanto a decine di situazioni in cui c'è il male a due passi da noi però continuiamo a vivere le nostre vite nella nostra casa ripeto coscienti del male assoluto e facendo finta di non vederlo tra l'altro è un argomento super delicato quindi cercherò di affrontarlo nella maniera più delicata possibile ma ci ha anche ricordato cioè a me ha ricordato questo film quanto in realtà il il genocidio degli ebrei sia una roba boi inimmaginabile ci sono delle scene in cui ci sono dei capi dell'SS dei capi nazisti che parlano di come rendere più efficace il modo con cui si eliminano centinaia di migliaia di persone e ne parlano come se fossero un consiglio d'amministrazione che sta cercando di massimizzare i profitti di un della vendita di un cellulare e visto che tu lo sai di cosa stanno parlando ripeto l'ha resa davvero la cosa più orripilante che si potesse immaginare non mostrandola mai e poi c'è un'ultima scena che davvero ti racconta quanto in realtà siamo in grado di noi come specie umana proprio siamo in grado di abituarci alle cose e di renderle normali anche se non lo possono diventare perché nell'ultimissima parte si vede il campo di aschwitz adesso e si vedono delle donne che fanno le pulizie che puliscono le teche con con le tonnellate di scarpe di persone che sono state uccise nei campi ed è un po' assurdo che effettivamente ne abbiamo parlato così tanto l'abbiamo mostrato così tanto quella roba così orribile che che forse ci siamo costretti a incasellarlo quasi in un genere cioè è quello mentre invece ripeto questo film ti leva tutta quell'iconografia ma anche i cattivi del film non sono Ralph Innes non sono dei volti identificabili non sono non sono dei cattivi da macchietta sono dei cattivi orribilmente umani nella meccanicità con cui fanno le cose ma non lo so non so manco dove sto andando a parlare perché ripeto è stato un film emotivamente provante per me un film che non concede niente praticamente e mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto per quanto ti possa piacere un film così perché è un po' strano dire che mi è piaciuto e in ultimo ultimissima cosa in un film che mostra la normalità dietro l'orrore ci sono solamente delle parti del film che sono in negativo che quindi sembra quasi un mondo diverso da quello della normalità in cui c'è una persona che sta che nel suo piccolissimo cerca di aiutare le persone dietro al muro gli ebrei che stanno venendo uccisi ed è pazzesco perché sembra quasi che il film ti dica che la normalità era l'altra in quel momento cioè la normalità era girare la testa considerare quello che succedeva dietro con le mura una roba non non pertinente allontanata dal nostro mondo non sono non c'è umanità là dietro ci stanno gli ebrei che sono una roba diversa da noi e ripeto appunto mi è piaciuto moltissimo sono stato terribilmente confuso scusa è un film insomma anche molto complesso e molto pur essendo comunque incentrato quasi su una singola idea comunque monopuntuale che poi è monopuntuale anche come punto di vista stilistico perché è un film estremamente geometrico però è un'idea che riverbera ha implicazioni ampie sia in chi lo può accogliere sia in chi magari può mettere in discussione l'efficacia fino a un certo punto chi invece dice già si schiera parlandone pensa a film tv della settimana scorsa come un settimanale come effettivamente già un capolavoro alla contemporaneità quindi è comunque un film che offre moltissimo e guardo da una parte credo uno degli aspetti più affascinanti è il fatto che sia un film che nega tutte le immagini chiaramente preesistenti le toglie dal quadro ma che esiste solamente perché sono già esistite quelle immagini e quindi grazie alla preesistenza di tutto il resto posso fare un discorso il primo film sull'ashwa sullo sterminio degli ebrei sarebbe un film folle perché no devi essere consciente di quello che c'è dietro infatti mi viene in mente che la prima cosa che fecero gli americani quando arrivarono ai campi fu portare ordinare che arrivassero delle macchine alla presa perché sapevano con la roba là o la filmavi oppure non poi in realtà c'è un enorme filone di dibattito di studi sulla rappresentazione della Shoah anche con posizioni molto importanti di documentaristi eccetera che possiamo un pochino semplificare tra chi crede che non possa essere non debba essere rappresentato e quindi l'unico modo di raccontarlo tramite le fonti orali e pensa a documentari che durano ore e ore semplicemente in centrali sul racconto orale chi invece lavora sulla macchina cinema per la ricostruzione e permettere che possa essere sentita quella tragedia in quel modo questo è un film che comunque si inserisce dentro un dibattito ampissimo che credo sia molto per me molto interessante per come comunque ci costringe è uno di quei film che ci costringe a riflettere proprio sull'efficacia dell'immagine della relazione che c'è tra l'immagine e il reale cioè nel momento in cui tutto il nostro mondo è sempre più popolato da immagini le immagini ormai sono ovunque sono ciò con cui che noi percebiamo la prima cosa che vediamo nel nostro quando ci svegliamo tendenzialmente è un'immagine nel nostro schermo del telefono ed è quasi l'ultima cosa che vediamo sicuramente per molti che scrollano prima di andare a dormire sono immagini l'immagine è ormai il meccanismo mediale che più media che più determina veicola la relazione che abbiamo col mondo e con la realtà nel momento in cui assistiamo pure alla complicazione delle relazioni tra l'immagine e il mondo penso ad esempio ai passi dal gigante dell'intelligenza artificiale parlavamo di Sora e di tutte le innovazioni portare avanti dai meccanismi delle aziende di chat GPT la capacità di creare immagini virtuali da prompt di comandi si complica chiaramente dalla relazione tra l'immagine e la realtà poter dire ah ho un'immagine di questa cosa allora quella roba è vera ormai è proprio quindi il tema su come quindi raccontare la realtà come certificarla è molto forte come restituire un un potere all'immagine affinché l'immagine possa essere veicolo di senso questo mi sembra un film che comunque lavora sulla cosiddetta banalità del male come direbbe Anna Arendt però applica quel discorso alla una riflessione sullo stato dell'immagine nel mondo contemporaneo e quindi tiene i due binari assieme lo fa in una maniera molto molto potente molto disturbante con una soluzione anzitutto che è quella di affidarsi tantissimo al sonoro e ci sono dei resoconti sul lavoro che è stato fatto sul sonoro che è impressionante perché praticamente negando l'immagine negando lo sguardo in realtà arriva tutto quello che giustamente tu hai chiamato quasi gli inconvenienti dell'essere lì accanto i fastidi dell'essere a vivere accanto al campo vuol dire soprattutto avere costantemente nelle orecchie il suono del campo che è fatto da urla spari gemiti movimenti meccanici oltre chiaramente agli suoni delle fiamme e questo è stato un lavoro sonoro durato anni so che hanno lavorato cercando catturando suoni nelle fabbriche nelle miniere hanno ci hanno poi lavorato per creare l'effetto di distanza del muro come sarebbe richiedendosi come potevano arrivare tutti quei suoni umani e non alle orecchie di chi stava dall'altra parte del muro ed è un film devastante dal stato di vista perché tu vedi questa donna che innaffia i fiori e intanto hai questo impatto sonoro veramente disumano e profondamente umano purtroppo poi hai anche gli effetti dei ballucini di notte dei riflessi delle fiamme notturne che spaventano la mamma della protagonista la mandano via cansi che non la lasciano dormire la infestano ed è veramente molto molto disturbante anche quella soluzione lì contemporaneamente lavora su una messa in scena che invece ha a che fare col capitalismo alla sorveglianza nel senso che lui John Glaser ha posizionato macchine da presa semi nascoste tutto attorno al set tutto ovunque nei vari posizionamenti del set poi lui girava dalla distanza non era fisicamente presente con il cast il cast è stato lasciato tipo forme di teatro sperimentale libero di muoversi all'interno del set e lui poi aveva questa dozzina di macchine da montare tra di loro ma sai che è assurdo questo che mi stai dicendo perché c'è una primissima scena in cui c'è la famiglia al completo sulla riva del sulla riva del fiume e ci stanno loro che parlano tra di loro poi piano piano iniziano a fare delle cose scendono al fiume e io ho proprio pensato che erano tutte delle dinamiche molto strane da set ho proprio pensato sembra quasi che li sta riprendendo di nascosto e effettivamente confermi che la mia sensazione in realtà era era perché è così esatto e tra l'altro in quei momenti se fai caso ci sono anche credo farfalle un paio che si posizionano sulla macchina la presa e la occludono ci sono dei momenti in cui vedi quasi uno sfarfallio di delle ali perché è probabilmente un insetto che si è appoggiato sul trattore della macchina sull'obiettivo quindi è proprio cioè lì lavora sui meccanismi di sorveglianza come lavora sulla quando va poi nella casa nella villetta queste macchine che vengono veramente quasi mimano i posizionamenti delle telecamere di osservazione e quindi c'è un ulteriore livello di cortocircuito che si innesca questo perché da una parte è il mondo di oggi in cui vediamo tutto perché quello fa il capitalismo di sorveglianza tra le altre cose come è stato teorizzato non soltanto la 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 capacità di record e di registrare tutte le nostre informazioni digitali ma anche la moltiplicazione dei punti di vista e in questo senso loro sono filmati come fosse quasi non so un carcere di massima sorveglianza come se anche loro fossero prigionieri là dentro è un pochino sì però con questo eccesso di sguardo che è sempre poi in contraddizione in contrasto con quella capacità acquisita di non guardare più di non sentire più con la rivoluzione totale di quello che sta fuori esatto in questo senso aumenta insomma la percezione il disagio che il film riesce in grado di suscitare e poi il finale senza magari è però sicuramente la proiezione verso il presente e quella routine che effettivamente quelle persone compiono accentua questo questa abitudine narcotica qualche modo suscitata un po' McLuhan quando parlava di narcosi del medium non parlava esattamente di questa cosa però ci siamo comunque un po' vicini ma poi soprattutto il finale è sorprendentemente cubricchiano oggi parliamo proprio di cubricchiano perché se ci pensi quello è il 2001 è proprio il 2001 lo stacco dall'osso all'astronave quello è volutamente la riscrittura di quello stacco di montaggio tra il presente del nazista del nostro presente con quel momento in cui lui soffre poi fisicamente questo male però poi alla fine scrolla le spalle e continua a scendere cioè neanche il confronto con le immagini del contemporaneo è in grado di in qualche modo con neanche quella musica e questo è un film che mette in discussione anche gli effetti della musicificazione del trauma e tra l'altro chiudo lanciando uno spunto un altro questo è un pelo più difficile forse da recuperare ma è Austerlitz film di Sergei Loznitsa grandissimo regista ucraino uno di quelli oggi un po' diciamo messi da parte per quel momento di russofobia per cui anche tutti gli artisti in generale sono stati un po' occultati eccetera perché lui comunque lavora anche in Russia lavora sugli archivi è un registro di archivi che ha fatto questa cosa sorprendente che è molto a che fare col film di Glaser praticamente lui ha posizionato 12 macchine da presa nascoste dentro a Austerlitz e ha semplicemente ripreso le persone che vanno al campo che vanno oggi a visitare il campo sono 11 riprese di pianosequenza montate dalle 11 punti macchina la durata del film e la durata della visita e tu vedi in realtà persone che giocano che scherzano che si fanno i selfie che si mettono in pose e ridono e prendono in giro cioè quasi non arriva cioè quindi lì è proprio una messa di discussione di come diavolo facciamo a mantenere efficace la relazione con la memoria e la storia perché lì hai proprio persone che attraversano questa disneificazione in un campo di concentramento facendosi selfie davanti alle scarpe e qualcosa non torna qualcosa non va e quindi è un film che consiglio di recuperare in questo senso perché effettivamente lavorano nella stessa direzione molto bene abbiamo chiuso questa lunga disamina dei film in concorso come miglior film e adesso passiamo alle altre 12 categorie non eravate portati da mangiare no ricordati che la gente non è riuscita neanche a vedere tutto Killers of the Flower Moon quindi decisamente anche noi dobbiamo fare i conti con la ho stavo distruggendo tutto con la capacità di mantenere l'attenzione niente ti ringrazio moltissimo Matteo per questa discussione questa chiacchierata sui 10 candidati scusa 10 candidati al premio di miglior film ti lascio semplicemente chiedendoti secondo te chi vincerà quindi un pronostico e chi vorresti che vincesse e se queste due cose appunto sono vanno in tandem nel tuo caso potrei essere combattuto però in realtà vorrei anche che fosse l'annata di Nolan per un discorso di credo che sarà l'annata di Nolan io vorrei che lo fosse ma per per quel discorso di dare spazio all'autorialità del blockbuster di cui parlavamo quando abbiamo parlato di John e Bill Nard ci sta ci sta assolutamente va benissimo io come ho già detto mi sa durante la chiacchierata invece mi sono davvero tanto affezionato a past lives forse è il film che mi è piaciuto di più quest'anno ripeto è stata una bellissima chiacchierata sicuramente lo rifaremo con qualcos'altro e come al solito chiudo il video dicendo che se questo video vi è piaciuto potete mettere un like iscrivervi al canale e attivare le notifiche noi se tutto va bene ci vediamo in un prossimo video il prossimo venerdì anche se oggi non è venerdì ciao